Wow, raga, dovremmo esserci, dovremmo esserci, sono tipo, voi non avete idea di quanto agitato sono, raga, perché, wow, ci siamo, torneo Fortnite Charity Event, raga, torneo di beneficenza con tutti gli altri youtubers, avete già visto dalla miniatura quanti sono, più o meno quelli lì sono un pochettino, ma c'è anche tipo Mike Shosha, il vostro caro Dexter, vabbè, ovviamente tutti quelli che ho messo nella copertina, tipo, SuperSquanConsole, CiccioGamer, Return, insomma, raga, siamo veramente in tantissimi, noi, come Team Blaze, siamo sempre, appunto, insieme a TheFesto, il suo canale, costate gli iscritti, Attenzione, vedo che vi state popolando, raga, inizia tutto alle 21, quindi 10 minuti, diciamo, un attimo per scaldarci, per un po' di carica, grazie mille XAlpha, primo borato di oggi, grande bomber, bella mystery, raga, siamo già veramente un botto, grazie a tutti, allora, vi stavo dicendo, come funzionerà il torneo, abbiamo, allora, 5 partite, inizia alle 21, ovviamente, quindi, questo ve l'ho già detto, 5 partite, raga, però partite, diciamo, diverse, perché, queste, queste sono le regole, quindi, partita numero 1, tutti a pinnacoli, quindi, anche se arriva la safe, raga, dovremo star Tutti a pinnacoli, F, dimmi tutto, e sai che casino, vero? Capitan Hacker, grazie bomber per l'euro, allora, 30 FPS, esatto, seconda partita, match normale, terza partita, match normale, quarta partita, match normale, ok, fin qui, tutto normale, partita 5, invece, solo la mappa inevata, Sulla parte di mappa inevata, bello, infatti, questo, grazie bomber, per la donation, certo, Anima, che mi ricordo di te, e match bonus, tutti a pinnacoli, anche se questo qui, raga, non so se lo faremo, grazie, Anima, grazie, Domenico, per l'euro, raga, siete veramente fantastici, allora, bella Capitan Hacker, grazie per l'euro, bomber Io, raga, vi ricordo, il match parte, appunto, alle 21, primo match, quindi, aspettiamo un attimino alle 21, bella Pava, grazie mille per i 2 euro, posso giocare, Cap, bro, questa sera, purtroppo, no, ovviamente, è un torneo, quindi, non faccio giocare nessuno Siamo io, F, perché il torneo in duo, ovviamente, serve privati, bella, Leonardo, grazie, Pava, bella Super 2 euro, ciao, Vistruti, posso giocare con te, super, purtroppo, questa sera, no, in una prossima live Bella Nello, bella Nathan, bella Lidia, rega, hashtag, forza blazing chat, bella Domenico, secondo voi chi vincerà? Secondo te, F? È vero che non conosciamo ancora tutti, eh? Non conosco, praticamente, nessuno, di dimmi, che ci saranno Beh, allora, io so che c'è Power, che, in teoria, dovrebbe essere il più forte, grazie, Anima, dopo regali, levo le donazioni, altrimenti, mentre siamo in partita, mi dà un fastidio Bella Gold, dicevo, c'è Power, che, diciamo, tra gli streamer più famoso, grazie mille per l'euro Poi, c'è Ciccio, che, tra gli streamer uno dei più bravi, appunto, sto parlando degli streamer più bravi Bella Vincenzo, poi, degli streamer più bravi, vabbè, ci sei te che sei un mostro, te, rega, te, rega, F è veramente una bestia Bella Nadina, eh, te, certo, eh, con chi mi riferivo, bella Samu, bella Super Io rega controllo Discord, intanto, perché, ovviamente, arriva tutto su Discord Bella Nello Ok, allora, raga, wow, 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 sono veramente agitatissimo, non so, non so cosa dire prima che parta il torneo, perché sarà veramente molto difficile Cerchiamo di impegnarci al massimo, ho cercato di, diciamo, minimizzare, sì, si può dire, l'impatto delle skin Quindi, milite teschio, picconi che non dà fastidio, ovviamente, mi ha messo il dorso decorativo E un delta per l'anno molto comune, bella Shatters Ovviamente, niente scia Bella Gamers Ah, wow, wow, veramente figo Bella Maurizio Ti sei buggata la faccia, no? No, no, non è vero Riavvia la live in caso non la vedi C'è Rikings, dovrebbe esserci C'è Rikings, giusto? No, io non ne ho idea, sinceramente Sai che non lo so? Aspetta un attimo Vado su WhatsApp Che mi aveva mandato la lista, ritorno Bella domenica Grazie Bomber per l'euro Vado un attimo su WhatsApp e ci guardo Solo per i veri capitani Cos'è sto gruppo? Allora, return, eccolo qua Mi ha mandato la lista di tutti i partecipanti Allora, abbiamo il vostro coro Dexter Power, Ciccio Gamer, Cipres One Console Inub Channel, Mike Showsha, Blink46 Checco Bomba Frederick 95ita, Gigi, Braz Crew Datteco, vabbè Un botto di gente Volevo vedere C'è c'era Rikings Qua non c'è Almeno in questa lista non c'è C'è Matteo HS Matteo HS Sai che l'ha messo con Fanatic Yard? Veramente Si ha messo Matteo HS e con Fanatic Yard Lo voglio vedere anch'io, infatti Hai Bob L'Olinoba Vabbè Sanji Un zocco rotto Ok, buono Buono, buono, buono Bella Emanuele Bloccata completamente Musica Ok Bella Vale Bella Domenico Buon raga per chi ti fate Dai, bella Minecraft Intanto vi ricordo ovviamente Primo link in descrizione E vi ricordo raga Che essendo un evento di beneficenza Grazie mille a Edoardo Per i 99 centesimi Potete donare appunto Con il secondo link in descrizione C'è scritto tipo Donazione per il torneo Raga È una ricerca contro il cancro Se non sbaglio Quindi Veramente molto importante Mi raccomando raga Vedete la lista di chi ha donato Apparirà la super in alto E Secondo me è molto importante Che lo facciate Quindi dai Bella Emanuele Bella Edoardo Intanto raga Vi ricordo ovviamente Un bel like per supportarmi Prima del torneo Anzi per supportare tutto il team Grazie Edo per la donazione Mamma mia Ma quante richieste vi stanno arrivando Raga ma che cacchio avete oggi Un casino Non ho idea Bella Roberto Bella Francesco Il Power nazionale Raga Io spero Io spero anche per Power Vi dico la verità Ovviamente In questo momento Ci dobbiamo affrontare Però Insomma Sono Sarei felice se Power Vincesse Bella Davide Bella Emanuele Bella Giorgia Perché Power Veramente se lo merita Un bravo player Bella Ferdinando Bella Alpha Bella Tommaso Raga cerco di salutare un po' Chi si iscrive prima della live Giusto per altri tre minuti Tanto poi lo può Arriverà ad avviso su Discord Vediamo un attimino Sta scrivendo Ok Vediamo raga Se arriverà la prima passo Del server privato Dai Bella Alessandro Bella Nevermid Bella Alessandro Si vince qualcosa No non c'è nessun premio E solo Diciamo Non è for fun Perché alla fine È finalizzata la ricerca Controcampion Kater 5 euro Grande Bomber Questa è la tenuta Un mio amico Si chiama Ernesto Bella Ernesto Il suo nome fa prima Con Efesto Quindi perfetto Ernesto Efesto Ti associo i miei nomi Alle rime Non va bene Scusa È vero Hai ragione Non lo faccio più È fresco Non lo faccio più Mi scusi Bella Francesco Furi si figuri Francesco Mesto Regà Quanti Efesto Efesto Ernesto Ernesto Bella Dylan Bella Baby Bella Giulia Raga Che ne pensate Che ne pensate Di questo torneo Mi raccomando Ditemi se fate la donazione Contro il cancro In descrizione Anche se ovviamente Apparite In alto schermo Lì Da su in alto All'estero vedete C'è praticamente un link In descrizione Che vi permette appunto Di donare contro questa ricerca Che secondo me è molto importante Bella Dani Vi ricordo raga Perché ancora non lo aveste visto Queste qui sono le varie partite Appunto che si svolgeranno Durante l'evento Quindi Partire numero 1 Tutti a pinnacoli Veramente strana Grazie Andrea per l'euro Mezzo normale Mezzo normale Solo mappine vattene Mi è arrivato un messaggio Su discord Controlliamo Fra qualche minuto Sarà messa la chiave Siete pronti raga Tra qualche minuto Efè mi raccomando Ricorda Sai com'è Che magari si vede la chiave Non vorrei mai Bella Omi Bella Raffaele Efesto è il migliore Efesto Te sei d'accordo Riguardo questa affermazione Efesto ti sembra il migliore Non lo so Non lo so Vediamo Vediamo Bella Cardo Io sono agitatissimo Anche se non si vede Sono veramente agitato Bella Andrea Grazie Josh Bell'euro Grazie Andrea Bella Kevin Raga Meno un minuto Dai Meno un minuto Mamma mia Io raga Voi non lo avete visto Tremando Sto letteralmente tremando Dato che mi raccomando Forza con l'iscrizione Attivate anche la campanella del canale Per non perdere appunto Tutte le prossime live Tutti i prossimi video Insomma Tutto Che chiave La chiave raga La potremmo avere ovviamente solo noi La chiave dei server privati Solo chi partecipa Bella Riccardo Saremo un cento giusto? Più o meno Eh sì Credo di sì Penso anch'io Di se avranno fatto 50 coppie Poi Fai che magari 5 persone Non vengono Una roba del genere Fai 95 Bella Zeus Gamer Bella bro Grazie mille per l'euro Grazie raga Chi si sta iscrivendo in questo momento Grazie a chi sta attivando la campanellina Dai Sono veramente Veramente in hype raga Veramente in hype Intanto il shop di oggi Non l'ho ancora visto Colpo da maestro Folletta Carino Intanto raga vi ricordo Ovviamente supporto a un creatore Nello shop In basso a destra Perché vi ricordo Che l'estrazione del contest Delle 100 skin Scusate Delle 10 skin leggendari Il regalo Lo farò a Natale Quindi raga Verrà quando Blaze-gapter Sunti all'interno del Supporto a un creatore Dai Bella Sabrina Il colmo sarebbe Se per sbaglio Entro nel team di uno Dopo aver inserito i server privati Tipo Clicco Per esempio Entra nel gruppo E mi entra Con un altro Nei server privati Sai che sarebbe il colmo È il top Bella Matti Bella Christian Bella Kevin Allora raga Come dovremmo giocarcela Dovremmo giocarcela Non troppo safe Perché a me non piace Zoccarmela camperando Proprio camperando Safe ovviamente Un game safe Perché Siamo in 100 pinnacoli Raga dove vogliamo andare Io ho la mappa Sì Vado a 15 Allora non possiamo Hai presente le colline intorno? Hai presente Non possiamo andarci? Cioè Non possiamo veramente andarci? Ok Ok fra un minuto Il server start Ok Devo mettere la password F Non me l'ha ricordata Alla mannaggia te E va tutto da zoro Lo so Ok Ah ok Non si vede Non si vede Perfetto L'ho messa Devo premere pronto Una volta che ho messo la chiave Eh sì Ok Mettiamo pronto Dai Perfetto Connessione a servizio Di matchmaking Adesso vedi che ci start Ok no Giocatori in coda 36 Mamma mia Che velocità Bella Loki Siete pronti raga Dai Un hashtag Forza Blaze Mi raccomando Adesso tutti in chat Hashtag Forza Blaze Raga Tutti in chat Voi non avete idea di quanto sono agitato Ci serve il vostro supporto Raga mi raccomando Un bel like Vediamo quanti like riusciamo a arrivare Ho bagnato tutto Bevendo un gosso d'acqua della tazza Non è niente Ho fatto un casino Siamo 106 in coda What? Chi è che rimarrà fuori? Non lo so No Rimaniamo fuori Più di 100 player in coda? No 130 Perché sta cosa? 130 Forse faranno due lobby Ma non penso Bella fra Grazie mille per l'abbonato Bombersi Un grande 150 150 Eh Intanto raga Grazie mille che mi supporta Con le donazioni Questa sera Siete veramente fantastici Grazie a tutti per essere presenti Guardate quanti forza Blaze Raga ma siete incredibili Siete i migliori Non c'è niente da fare Siete dei veri membri della turma La partita sarà tutta pinnacoli Dopo Droppate lì e non uscite Anche se arriva la safe Ok FM Partita raga Tutta pinnacoli Vi ricordo che la prima partita Appunto questa che stiamo facendo Tutta pinnacoli Seconda mezzo normale Terza mezzo normale Quarta mezzo normale Quinta solo mappa innevata Niente male Tengo aperto Discord No hanno saltato una lobby L'hanno già saltata? Guarda guarda Siamo 55 ora in coda Che succede? Grazie fra per l'abbonato Eh Forse si aprirà un'altra lobby Secondo me si apre un'altra lobby Sì Per forza Probabile Vediamo chi sarà rimasto fuori Beh la sai Intanto noi Ecco questo E' stato un altro ovviamente E' stata adesso In questo momento Mi sa che qualcuno Ha fatto vedere Tipo per qualche motivo Per errore da passolo Ma che cacchio scrivono? Probabile Perché c'è Infatti uno ha scritto Perché c'è 150 in coda? Bella Riccardo Che casino Che casino Bella Ricci Grazie mille per la donation Bella Giovanna Forza Blazer e Festo Grande Bomber Bella Andrew Eh Giocatore in coda Da sempre 57 Raga vi ricordo canale Mi hanno detto che Matteo è uscito da pa Matteo? Matteo HS è uscito da password Non ci credo Un minuto al match start Ok quindi noi siamo in coda In questo momento Nella vera coda Ok buono 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 Perfetto Dai raga ma Non si può uscire Mannaggia Non ci credo Non ci posso credere Vediamo se c'è anche il return in live Dai return Dai Dai Ah guarda anche lui Anche lui nella nostra coda Dai Dai vediamo Vediamo che cosa stai dicendo Perfetto È la prima frase che ho sentito questa È fantastico Bella Filippo Bella Fra Dai vediamo quanti siamo in attesa Io non faccio ego Anche loro Sì Sono nella stessa attesa Nella stessa lobby Un minuto al match start Dai raga Don't worry We're honest Vanatic Jarl Ah Va bene Ah e c'è anche Jarl Startata bro Startata In attesa del server Sì vedo Grazie squadro per la donation È mutato Bella bro Adesso raga devo mutare le donazioni Muto anche la musica Bella Grazie mille Alessandro Hashtag daie captain Grande vamber Mutiamo tutto E dai raga Si entra in game Siete pronti Silenziamo questa chat Altrimenti fa un casino E dai Bella killer Bella Nicolas Bella Roby È vero Roby Regà 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 Che figata Mamma mia Non sono Sono entrati in un server privato Per questo mi sento Cioè in realtà sì Però così competitivo No Solo pinnacoli Va bene Vi ricordo regà Che figata del babbo natale Primo game Solo pinnacoli Sei pronto Dove droppiamo Eh beh Fili Sei un grande Ti adoro Ti adoro Ti giuro Sei troppo forte Ho un'idea Ho un'idea Stiamo un attimo in aria Stiamo un attimo in aria A meno Dobbiamo far farlo Troppo agente Diventerà per primo Eh niente Se no prende piccola Della gente bro Eh f però magari capivamo Dove andava più gente No Ma guarda quanti cacchio sono Ci sono troppi Sì va bene Regà Io fado tante fps Ma cos'è Oddio Bella Monica Quanti sono Io vorrei capire chi sono Cioè tipo chi è uno E chi è l'altro Aspetta eh Quanti cacchio sono E fai dove sei Sono palazzo Di fronte al palazzo rosso Ok La cassa La cassa sopra L'ho visto L'ho visto L'ho visto Ho trovato un'arma Aspetta Un pompa Fantastico Regà Quanto sta raggando sto gioco Mi sta raggando troppo È orrendo bro È ingiocabile Aspetta No F è ingiocabile Tu dico Oddio sono 100 player a pinnacoli Regà Siamo 50 Ah beh è giusto 50 pinnacoli È ingiocabile comunque Tranquillo Aspetta F ci sei Sì Sì lo so Aspetta Eccolo Eccolo È là Non so chi sia però Ah niente Ne hai uno te Ricordo regà che dobbiamo giocarcela molto safe Perché È un turno abbastanza complicato Vedo che F è morta un botto di gente È morta Qua non hai buildato te Ne sono sicuro No non puoi facciarti bro Non puoi stare così Sì hai ragione Ti pullano tutte le parti Da dietro Sì ne avevamo uno dietro Dove? Arrivo Cavolo Aspetta Guarda c'è qualcuno Visto Sto arrivando Arriva da sotto Lo vedi Hai sentito? Non so da dove Però arriva da qualche parte Regà scusate se sono Poco diciamo Intrattenente Però Sapete com'è Torneo Contatti youtubers E contatti streamers Siamo quasi doppiati Fps adesso Aspetta Ne ho vissi uno eh Bella Nea Grazie mille per la donation Dov'è? Lo cacchio Ah eccoti Nazio Ciao La smettiamo Usciamo da sto buco di fogna Per favore Via Aspetta Ma stanno campionando bro Non puoi uscire Eh sì è vero Stanno campionando tu Oddio Riga quanti cacchio sono Eh vabbè ciao Ciao amici Ciao amici Tutti camperano Eh se tutti camperano Regà dobbiamo giocare di conseguenza Purtroppo funziona così Eh abbiamo partito Ho obbligato Eh sì Tutti a pinnacoli Sono un pazzo A far tutto a pinnacoli Sì ragazzi Sono anche i two players In questo momento però Mi sembra che non sono in live Qui non ne sono sicuro Aspetta F F Tu hai perso Dimmi dimmi Non possiamo uscire da qua eh Infatti Buono 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 Sì sì ho visto Grande Aspetta L'hai rivisto? No ma non sa Faccio più Direi Però giocare in questo modo Ti dico mi piace Non mi piace Perché È strano È un metodo di Di gameplay Che non ho mai provato Cavolo mi hai fatto prima un colpo Ti giuro Aspetta Raga ma come stia giocando Che quello là sta dentro una gugola Aspetta Sta dentro una gugola uno Ho capito dove sono Eh nord Non puoi pushare per nessun motivo No no Non esiste che pusho Guarda Aspetta Se vedessi l'altro amichetto Ti ho un'idea di quanti colpi Ti tirerei Tocca a fare così Efe Io ci provo eh Lo vedi? Non puoi Non puoi Ci provo a sparargli ovviamente Vieni verso di me se riesci Facciamo lo skirmish Sì E questo raga è lo skirmish 100% Oh cavolo Cavolo Intanto forse con le skirmish Mi raccomando Però non puoi stare Ti fanno una caisse Se sei morto tu eh Sì hai ragione Hai cure? No vero? No Me l'avesti già date Buono Forse Non lo so Dov'è? Non lo so A nord Non riesco a di dare Eccoli Eccoli Preso uno Ok atterrato GG E Z Joshi Si chiamava Ordinate? Eh 15 Dentro al palazzo In basso Eh io gli tirerei sta roba Ma non c'entrere No raga Se mi prendo la mia struttura Sono morto Cavolo Lo sapevo Non l'abbiamo detto Hai visto Efe? No che vedi Non vedo niente Sei cieco Ma mannaggia Teo Aspetta Raga Se qualcuno lo sa Mi fa un cenno Su che situazione è power Dovrebbe essere in dive su Twitch Cioè Non dov'è Perché non me ne frega Se è morto o vivo Dov'è Non me ne frega Grazie raga Intanto siamo più di 13.400 Siete veramente incredibili Efe ne hai visto uno? L'ho visto Sono a N Sto aspezzonando il palazzo centrale Aspetta Aspetta Dove cacchio vai? Ah io sto No no Sto guardando Ah sei nel mio? Ok E' uno sopra il tetto del palazzo centrale Che sta hitando uno al palazzo rosso Quello che era rosso una volta Molano Efe Efe sono sud Sono sud Tantissimo proprio Presidente cosa vuol dire? Tantissimo Presidente cosa vuol dire? Che un colpo è Power non è nel torneo Proverò che fai bro Una cavolata scusa Pensavo che fossi là Sì lo so Bella setta Power è vivo Power è vivo Return è morto Allora regà non c'è sto che appena mazza Siete in 14.000 che scrivete Con calma Dovrei mettere la chat Sono abbonati Se riga Al prossimo game Chat sono abbonati E' avviso Sono di qua Sud Da dove? Da dove? Da Palazzo a C Palazzo a C C Però quanti colpi di R hai? Eeeh 79 Non ne ho tantissimi E' una quindicina? No Mai tanto Non c'è l'anzi Stai attento Attento Grazie Fabrizio per la donation Dammi qualche colpo medio bro Una quindicina anche Non tanto No problem E' fitto lo dico Unite e son morto Eeeh Siamo fratelli allora Ne ho terrato uno Ma ah l'ha restato L'hanno restato L'hanno restato Cavolo Return Lo hanno rianimato Return è morto Steph è morto Mi hanno pure Mi hanno detto Dov'è che copo Un panciato Eeeh Vabbè bro Non andarci addosso No no Figurati E' brutto Proprio giocare così No no Io non Non mi interessa Grazie Nello Cavolo 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 Questo mi ha fatto un lice Proprio Beh ma Mi ha fatto un nuovo taglio di cappelli E' feo Annaia Non ho più mazza Mi serve una mazza Cavolo se mi serve una mazza Cavolo se mi serve una mazza Raga Mazza per favore E' quello che vediamo fuori i materiali Please No Quanti materiali hai Io sto più con 300 Ehi no 50 Sai che vuol dire 50 Che sei morto Si Ho anche 27 di vita Ricordatelo Raga Siamo chiusi in sto palazzo Dall'inizio del game No Divertente ragazzi Aspetta Comunque 18 Ci serve Sì ma non so da dove si sparano Da nord Uo abbiamo gente sopra Qua sotto da noi Qua sotto da noi c'è gente Ah infatti ecco Sai che ci senti bene Non è edita Non è edita Ti visti? No non li ho visti però Stanno qua sotto Ma stai fai in live? Non penso Non ne sono sicuro Ma non penso Vai Lo sto prendendo No Sono uniti Ho fatto Nazza lui Dai Che schifo Raga Aspetta eh Efe Dobbiamo stare molto Molto più vicini Proprio attaccati Uno addosso l'altro Vicini vicini Oh Efe Ho trovato Ho trovato una miniera d'oro Mi serve Ci sono degli scudini qua sopra Mi tocca che mi riprendi Io uniti e sono morto Quindi tocca Oddio player Bro No bro Scusami Fermo Grazie Grazie No perché mi stavo sparando Bro hai sparato 50 euro Sei pazzo Efe Cavolo qua smontano tutto Raga Qua smontano tutto Cavolo lo sapevo No dai dal palazzo A 105 Efe Quanti cacchio sono Dai raga Non mi faccio prendere Non mi prendono ancora E adesso si Se non ti butti da me Non posso restarti In nessun modo Efe Non posso buttarmi da te Ma mazzano Se vengo da te muoio Eh lo so lo so Bella mattia Grazie bomber Per la donazione di 50 Sei veramente un grande Efe Mi sono lanciato Mi sono lanciato Incredibile Sono fatta No 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 raga Vabbè vediamo Efe Vediamo Efe Tranquilli che E vabbè E vabbè Return mi sa che è morto Vado vedere la situazione Un attimo negli altri Vediamo se Return è morto Return si è morto Ah Return sta guardando Quello che ho ammazzato io E Z Georgie Steph è morto Ok Ciccio è morto Ciccio è morto Ciccio è morto raga Vediamo Bella Maremma Captain Blazer è morto Chi l'avrebbe mai detto Giuro Il pavimento Non si può più Con una mannaia Adesso raga Cerco di stare un attimo Zitto per far concentrare Efe comunque Ma mi spara Checco a me Dove lo vedi Checco Mi informano Questi chat Io già faccio Non leggi Regà dai Non imbrogliate Mi raccomando Mi raccomando Un bel like Forza Siamo 15200 Forza con le iscrizioni Obiettivo di oggi raga 544.000 iscritti È molto Pannaia Lang Non era Checco bomba Era Efe Questo è quello Che ho ucciso io Dai Ti ha ammazzato Quello che ho ucciso io E poi l'ha arrestato Bella Compa Dai Nel palazzo rossa Non vinto Voglio vedere la fine Della partita Voglio vedere la fine Di sta partita Ma guarda Questi come se la giocano Un po' più camperata Che noi Incredibile Cioè Ma loro hanno tanto Da piccolare Noi no Jure Jure è morto Ciccio no Ok Ok Sto vedendo La leve di Ciccio Bella Roby Regà avete visto Come ha zecchinato Efe Mannazza Vediamo questo No 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 È morto Soul È morto Soul Adesso Lo dico in chat Ok Che coperano Ha fatto una kill Ha ucciso L'Aku DG Bella per Checco Comunque Checco Non so se con Ciccio Però È vivo Questo raga Quello che ho ammazzato io Questo è quello che Se pensare che Non possono uscire da pinnacoli Cosa stiamo facendo Non potete uscire da pinnacoli No raga Questi Questi vanno fuori Come minimo Questi vanno fuori Ok No 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 Niente Vabbè Questo è morto Proprio del tutto Definitivamente C'è anche anima Raga Bella per anima L'ha devastato L'ha distrutto Jarl Jarl Voilà Questo Questo è con Con Matteo HS Raga Lui è dei fanatic Veramente una bestia E Danese Jarl Non è una bella idea So che è forte Vabbè Anche io so che è forte Fili Lo voglio vedere Voglio vedere cosa combina Eh ma mi amore Per la save bro Puoi levare la webcam Così si vedono le kill Le 0 kill che hai fatto Vogliono vedere bro Vabbè Una l'avrei dovuta fare Poi l'ha arrestato Ma qua è difficile 100 player app in acoli No Jarl è morto Jarl Vincito Bertra Dai Bertra Tipo per te Dai Bro Guarda quell'altro Guarda come giocano È comunque A chi trova più bende A chi trova più bende Sì ha vinto Chi trova più bende Ma infatti ti dico Il primo game Questo qui di 100 pinnacoli Non mi piace Non mi sta piacendo Bella game Tanto per questo Sì questo è per riscaldarsi Sono sicuro Bella Daniella Puoi avere l'onore Di vedere un fanatic Certo bro Voglio vedere come finisce La partita bomber Ma chi è questo? Bella Joligi Bertra È un mio amico Vincito pure Vincito pure Guarda vincito pure Ma stai scherzando Lui è più forte Di far matizzarlo Ragazzi ha vinto lui What? Regà Gli illuminati esistono What? Ma stai scherzando No regà Ma siete seri? Io pensavo che vincesse Jarl Ha vinto Bertra Gigi Bro Sono felice per lui Perché io lo conosco Ha trovato cure Jarl Metti di pronto F Gigi Ricordati quella cosa Ma che Va bene La prossima partita sarà normale Nessuna restrizione La chiave sarà messa a beve Nella stanza Bella Grazie raga Intanto per tutte le donazioni Siete veramente grandi Ora li riabilito Quindi Se volete fare una donazione Fatele adesso raga E mi raccomando Adesso saluterò tutti quelli che si iscrivono Quindi in questo momento raga Prima di startare la prossima partita Che sarà la vera partita Diciamo Secondo me la più bella Saluto tutti quelli che si iscrivono Bella Nicolassa Bella Istituto Istituto Craft Magà Bella Michele Bella Lonely Bella Sneak Metti solo abbonati Sì Va bene Metto solo abbonati Grazie mille Per iscrizione Metto solo abbonati Così raga Faccio un attimo riposare i mod Mi raccomando Se volete iscrivervi in chat In questo momento Tasto abbonati Bella AMS Grazie per l'iscrizione Bella Lorenzo Raga Canale DF in descrizione Mi raccomando È molto importante Se volete fare una donazione raga Per appunto questa società Questa azienda Che cura il cancro Mi raccomando Link in descrizione Bella Exalfa Bella object Ragazzi Ricordi solo per tutti quelli che si abbonano Bella Daniel Grazie per l'abbonato Bomber Bella Simone Grazie per esserti iscritto Grazie Filippo per la donazione Siete dei grandi raga Grazie mille Ora partono tutti gli abbonati Bella Shatters 5 euro La prossima volta che vai live Giochiamo insieme Certo bro Mandami il tuo nome Mi raccomando Grazie per la donazione Sei veramente un grande Adesso ragazzi Gioca bene F Una skin di quelle che proprio sono invisibili Secondo te Invisibili Allora Cioè è difficile da vedere Tra le skin dei poveri che c'ho io Fa vedere quelle meno visibili Grazie video Per la donazione Questa Questa è poco visibile Guarda Questa è vero che ci sta Sì ci sta Dai Allora raga Me la try hard Proprio tantissimo con questo Poi try hard No però Bella object Cap Dai che almeno una Vincete sicuro Ragazzi si prova Dai Dai che ci si prova Bella Roby Come mai non c'è i Samu Perché è un duo Vedete raga Siamo in coppia Quindi ho scelto F ovviamente Bella Erika Che è il più forte del team Bella Roby Altra raga vi ricordo Per scrivere in chat adesso Modalità solo abbonati Quindi mi raccomando Tasto abbonati sotto tasto iscriviti Se volete abbonare il canale Mi raccomando Grazie succo per esserti iscritto Grande bomber Che è sta roba Brutta proprio Questa skin Faci Questa raga è classico Grazie vero per esserti iscritto Ciao mi invii Amici Amici Cos'è scritto bro Amicizia Mi chiamo Nicolò Maffongel Prossima live bro Grazie raga Intanto per il grandissimo Playgamer Top donatore di oggi Che ha appena sparato 50 euro Playgamer Sei veramente un grande Ti ringrazio di cuore Bella Fra Viva gli abbonati raga Viva i veri Vip della turma Grazie mille per chi si sta abbonando Perché sono appunto I veri vip della turma Abbiamo qualche notizia di Fortnite I 14 giorni di Fortnite Vabbè questo lo sappiamo De moto stretta militare Matte essenziale Cos'è la matte essenziale raga Matte essenziale Questa modalità non dispone di mappa bussola eh Non dispone di niente Non c'è l'interfaccia in sta modalità Per conquistare la vittoria reale Sarà fondamentale Distinguere alleati e avversarie No Non mi piace Come vai A te ti piace? La safe si vede Appunto Sì la safe si si vede Anche io sono in vip raga Ovviamente tutti gli abbonati sono in vip Bella object Bella fra l'az Raga vi ricordo Mi raccomando Negozi oggetti in basso a destra Supporta anche il tour E se volete partecipare al contest Di 10 skin Che appunto leggenda Ovviamente skin leggendaria Che dò un regalo A Natale raga Mi raccomando Il codice è questo qua Blaze-captainpstint Supporta anche il tour In basso a destra Nel shop Vedo un messaggio Chiave server Dai Abbiamo la chiave Efe Cosa devo fare? Devi nascondere E' certo che non me lo ricordi mai Perché non so il momento in cui te lo devo dire Perché me ne ho deciso Te lo ricordi a solo Ok vai E infatti meglio Vai mettiti pronto Velocissimo Te fai Sono pronto io Cambiati skin Perché quella lì si vede sempre Cioè si vede proprio tanto Secondo te Oppure Levati la spada dietro Levati la spada Intanto ovviamente Raga Giocatori ancora 16 Ci siamo Giocatori ancora 16 Va bene così? Benissimo E spazio via la polvere così Dai Ammirati raga No Ho sbagliato Lasciate Il mio nome è Michalo 08 Quando vai di nuovo in live Andrò domenica Che sta figate Hai sesso Non sapevo Non sapevo Non sapevo Non sapevo Non sapevo Non sapevo Hai sesso carta forbice Si shoppa O te la dare In cosa? Eh? Si shoppa Te la dà No Si shoppa Si shoppa Ah no Non ce l'ho Ah Vabbè lo schifo Giocatori ancora 60 Raga vi ricordo Questo game Sarà mezzo normale Quindi Voi dove ci consigliate Di andare? Vediamo un attimino Raga vi ricordo Che per ora Posso scrivere Solo gli abbonati Bene Daniel Grazie per l'abbonato Bomber Si è abbonato un po' Va però È arrivato adesso Bella lolly Bella cap Quando giochiamo insieme Nella prossima live Bro Grazie Shatter Speri 5 euro Bomber Secondo te F Un posto Per Dropparsi Buono Te lo dico Ma allora Cosa vuoi fare Anche lo start Non ti interessa Cos'è che devo fare Bella Filippo Interessa fai dare subito No 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 Assolutamente Perfetto Allora Vediamo dov'è l'autobus E poi te lo dico Va bene va bene Perfetto Vediamo la modalità Solo abbonati Così almeno Potete scrivere Entrambi in live Quindi qualcuno Che ci stream sniper Lo troviamo Ah è vero No Gli stream sniper No Vuoi che ci stream sniper Che sono server privati Sì 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 Sono server privati Fè Vediamo raga Mi sa che abbiamo qualcosa Annunci Fra un minuto server start Dai 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 Sono felicissimo Perché tu hai la webcam Che senso ha Tanto non è che nascondo cose Bella Mattia Parco Pacifico Pazzo Nuova città Sì sì infatti Io sono bruttissimo Ma lo so Lo so Raga Bella Gabriele Ma che streamer ci sono Allora Superliz one console Power Ciccio gamer Checobomba Efest 96 Power non so se c'è Controlla un attimo Mi sembra di sì Twitch.tv Slash power tv Vediamo se c'è No Ah sì c'è C'è nei server privati Però non sta streamando Ah furbetto l'amico Furbetto l'amico Sì 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 Ha fatto bene Ha fatto bene Qua c'è mano A lui lo stream snaperebbero Tutti quanti Che agente purtroppo Anche a retorno Anche a retorno Adesso lo stream Sdai periamo Sì sì Retro se vi senti No Lo scherzavo In un video Parli della tua attrezzatura Sì sì Si può fare Bella Matteo Non è un dissing Regale con calma Bella Gianni Lo dicevo per scherzo Bella Sabina Sì ci sono I two player Sega non sono in live Ma ci dovrebbe essere Bella Jenny Bella Vincenzo Bella Rosanna Rosanna Toglie la tua faccia Puzzosa Mi distrai Tanto raga Forza Obittivo di oggi 544.000 iscritti So che oggi è difficile Però potete farcela Mi raccomando Raga Link in descrizione Per la live Vdf se volete vedere lui Adesso io stream Sniperfest Ah E io sto Sniperfest Ah Ah Fai 508 Spettatori Ma sei pazzo 264 Ma sei un figo Ma sei un figo Non c'è niente Da fare Scusa Come fai a far Sti calcoli Sei un grande Bella Samuel E partita raga E partita E partita Muttiamo l'alert E dai Ci siamo Siete pronti Bella Daniela Non ridere Toglia No Robin Che sei pazzo Mi rubano le creep Magari Non lo so F Dove andiamo Raga votate anche voi Mi raccomando E non città tipo pinnacoli Scordatevele Raga scordatevele Siamo nei server privati Scordatevele Città più safe Sto guardando Sto valutando la situation Allora qua ci andranno due team Qua ci andranno Aspetta Dove Dove è qua Dove è qua Allora Alle piste qua ci vanno Minimo due team Qua ci vanno altri 3-4 Sì Rifugio Rifugio Lande No lande no assolutamente Io F stavo pensando Rampe ghiacciate Non sta rampe ghiacciate Basta sinistra Vai ci sta ci sta Sei sicuro Ma scusa Andar qua Andar qua Dove Guarda Guarda un po' dove Non so cosa sia Eh sono due case Non vedi Andiamo No non lo so F C'è troppa poca roba lì mi sa Io direi raga Rampe ghiacciate E dove si Butta la gente Sì esatto Ci sono gli aerei Per quello che volevo andarci F Altrimenti ci droppiamo qua Dove sono serie Guarda un po' Eh ma là non c'è il loot No c'è il cosino Rosso Il cosino rosso ragazzi Dimmi vuoi dropparti lì E poi andiamo Con l'aereo No 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 Andiamo a rampa a sto punto Perfetto Altrimenti picco polare Non lo so Raga non lo so Dipende quanti team ci andranno Apri il placardio c'è Bella David Bella Christian Toglio la cam Così vediamo chi ammazza chi Eh per questo sì Avete ragione Avete ragione Dopo lo faccio l'alzo Match startato Bella Ok Raga ci siamo tutti Io sono curioso di vedere dove va il turno Sono curioso Però raga non ditemelo Mi raccomando Eh a me mi hanno già scritto dove va il reggin Non me lo dovete dire ragazzi Non lo voglio sapere Aspetta Vabbè F Se diciamo non dite però Qual è la prima cosa che fanno Ok E anche se qui dove è andato F c'è qualcuno picco? Eh sì c'è qualcuno picco C'è qualcuno pure a rampe Sì a rampe ne ho visto uno A rampe ne ho visto uno Uscendo qui dove sta la cassa Dai Io scendo sulla torre No sulla torre c'è andato lui Cavolo Ok io scendo qua F attento l'hai visto È sulla parabola L'hai visto? Cavolo È sulla parabola C'è una torre No non c'è niente qua dentro Che schifo Sono un misero quad Io F mi tocca che mi lancio eh Non ho un'arma Ti hai aiutato Dai l'hai ucciso No sei un grande F Ti adoro veramente Sei un grande Ho fatto una cavolata Fatelo prendere Ok Avevo uno scar questo? Sì si mi hai aiutato con lo scar Ma sei fantastico Infine ti adoro veramente raga Te l'ho ficcata dentro Hashtag forza e blaze raga Hashtag forza e blaze Dai Dai che questo qui Speriamo si vince Oddio quanto bella roba Quanta bella roba Sì bellissimo Allora Hai finito Saremo un botto sull'aereo Una cosa che Penso che tu sappio Perché ovviamente sei più forte di me Però nel dubbio te la ricordo Se stiamo sull'aereo Quando ci sparano E l'aereo ha poca vita Scendiamo eh Perché altrimenti Ci spada in faccia Ci leva 50 50 Mamma mia che casino E infatti è una fracca proprio È una fracca Capisco un po' Che ti Allora Un pompa del nonno Non si dice una fracca Cioè da me no Da te non lo so Eh da me se dici sì Eh vabbè a Roma Ah raga voi di due siete Bella Darian Io Roma lo sapevi? No Non l'avrei mai detto Cos'è che hai detto? Io di nonni Nonno Un pompa del nonno Eh no Nonni meno Portamene uno Se riesci Beh che io ti dico la verità Preferisco Preferisco l'automatico In questo modo Se non ho una mitraglietta Almeno preferisco l'automatico Per forza E infatti non ho avuto la mitraglietta qua Ah Efe qua proprio Ci servono tantissimo R Cecchini Sto roba qua Tanto alla fine Il pompa Poi se fai un fight Da vicino Ma non penso La sei fregando Non è lontana Non è lontana Buona come cosa Siamo ancora a 56 rimanenti Ovviamente qua Piccola più materiali che fuori Sì sì Sto piccolando Sto piccolando come un assassino Aspetta Ok No tre colpi meglio Tanto lo scar Te colpi Ho visto il nonno comunque Te colpi medi quanti ne hai? 163 Buono Raga mi fate sapere Per favore Chi muore Cioè nel senso Di chi conosco Chi muore Non ditemi Io vi chiedo solo una cosa raga Per rispetto degli altri Perché è un bel torneo Non rovinatelo Dicendomi dove sono Perché è proprio brutto Altrimenti Allora fate una cosa È morto Return È morto Return Davvero? Sì sì Ritorno è morto L'unica cosa che ti dico è che Return in una città in safe Eh ma Return è morto Adesso non è più tanto in safe FM Ho un'idea Grazie Chris per la donation Vieni qua Vieni sull'aereo E seguimi Eh vieni sull'aereo Seguimi Hai visto dove ho messo il puntino Grazie Lorenzo Ciao però puoi salutare Ma è Filippo Bella Filippo È bella Grazie bomber per la donation Guarda Morto power Come è morto power Eh sì Dai piccoliamo qua Eh beh Mica è lì No È morto power Gigi Io scendo eh Vado a piccolare Sì 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 Veloce Io luto intanto un po' la casa E piccone luto la casa Dai Tanto raga siamo 15.000 Ma quanto siete fantastici Da uno tantissimo Raga spam di boh Hashtag sono fantastico Tutti Perché siete tutti fantastici Aspetta Bello questo Efe uno scudino da Ah ma non ti serve Scherzavo Scherzavo Ma non c'era l'animazione Di che c'è la barra sotto Io lo bevevo Ciccio non gioca Ciccio non sta giocando In sto game No C'è checco raga Checco Ah è morto checco Gigi E anche soul Checco e soul Sono morti Ok Raga vi lascio la chat libera Aspettate Cerco di alzarmi un attimino Faccio velocissimo Così dovreste vedere la chat Raga ditemi se vi da fastidio Poi dopo al massimo sistema Sta cosa Così almeno vedete chi muore Tanto vedete voi no Si No aspetta Ah la chat è più in alto Più in alto ancora Aspetta 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 Voilà Mi piace così raga Che ne dite Bella Ratux Lo so che è antiestetico Però raga che ci posso fare Oh brutto Bella Andrea Hashtag sono fantastico Grandi Questo gioco è fatto bene Le staccione di legno Che danno mattone Bellissimo ragazzi Ma stai scherzando No no Mannazza Efe Dobbiamo partire tra poco Non possiamo prendere il meno Inizio della setta Abbiamo più tempo possibile Più tempo possibile Sì 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 E quanti materiali hai? Proprio più possibile Io ne ho 900 Ok buono Basta che ti rimpicciolisci Sì lo so Eh lo so raga che così è brutto Però almeno vedete la chat Cioè mi dispiace per voi Perché vedete la webcam In volante Ciao Sto frutturando Però dai così è bellino Non puoi rimpicciolire la webcam? Sì Posso farlo Efe Efe non farti vedere Andiamo non sopra Ho sentito l'aereo? Sì ho sentito Non rompere gli alberi del tutto Mi raccomando Vabbè tanto Quello che ho appena fatto Citto non rompere gli alberi del tutto Vabbè Quello era piccolino Si poteva fare Gli altri no Ci sei Efe? Partiamo Aspetta Sto arrivando Faccio più possibile Veloce Devo far stare l'aereo fermo Altrimenti mi vedono Muoviti 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 Vabbè veloce veloce Bella Andrea Bella Manuelito Ah bella Manuelito Ah no non è Manuelito che pensavo io Muoviti verso qua Grazie dico per abbonato Verso dove? Ok dall'altra parte in cui stavo andando Sono scesi dall'aereo Quindi Fai una cosa Efe Guida te Guida te Non sparare lì eh No no tranquillo Non sparo nessuno Regà mi tocca ballare Altrimenti qua rischio di Venire cechinato Con questo ballo è quasi impossibile Che ti cechinano eh Hai visto che roba Efe? Passano dei colpi in mezzo Eh ti è in mezzo Lo guardiamo questo qua che è da solo qua sotto? Sì Va bene Bombardato vai No ma hai lasciato Da solo Dov'è? Eccolo Qua da me bro Da me Anche Non so che sia eh È bianco Cavolo quanto cacchio sto laggando regà Mamma mia Bravo Non sono solo io quell'aggo No no è vero Lagga Io pensavo che fosse il mio problema E dicevo ma adesso finirà di laggare prima o poi Questo qua non ha materiali Mi sa che è un personaggio normale C'è un personaggio No no non c'è gente normale Sono tutti youtuber e streamer Un nome sconosciutissimo senza materiali Non lo so Efe vieni da me Vieni da me Tanto sono server privati quindi non può capitare gente normale Ragazzi se mi vedete fluttuare perché così vedete la chat quindi chi muore Sperate che adesso mi rimpi Però ma è sta cosa mi dà fastidio Ma è sta cosa mi dà fastidio Regà perché finché sei in una partita normale lascio perdere Ma quando sei in un torneo sta cosa ti fa rosicare Ho perso 10 di danno 10 di vita Perché sono salito sull'aereo Dai salta su vala Mamma mia Che gioco brutto Eh bro non partiva sta cosa Sì lo so lo so Aspetta ridimensiono la webcam Intanto ballo Tu 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 Efe dovresti guidar te Ah ok non l'ho visto Dovresti sai com'è Aspetta io il caccia comunque Adesso Noi vogliamo lo sa Era scad? Che era scad regà? E' quello che ho ammazzato io E che cacchio è scad Però stavo laggando parecchio Beh era per lui allora Cap vinci tu superi i blaze Dai raga Hashtag forza blaze Hashtag forza blaze in giro Quanti che l'abbiamo una vero? Eh pochissime Due due Ah due What? Io non vedo le tue Eh io ne ho due sì Prima vabbè vabbè Vola molto più in alto Vola molto più in alto Eh sto vedendo Ci sono gli eri riparati qua Prendiamoli prendiamoli Poi ci sono gli eri quelli sani Sì sì ho visto Vogliamo dare due eri così Va bene va bene va bene Aspetta un secondo Però vediamo se il loot Ci sono le cazze Ci sono le cazze Grandissimo In realtà non lo so Ne usiamo una e basta Come si parla a te Bro vieni qua c'è il dono Grazie Dobbiamo cercare di star più lì Cos'ho trovato Questa tela dà C'è che tu laser di questa roba No no Previsco la mia diretta bro Sì scherzi Allora io lo voglio Bende vuoi portarle? Aspetta Cd lasciano i cildini Che prende Oppure Di uguale No Sveglieta Bende non le posso portare Cioè ce li ho già Nel inventario Cildini sì Ne ho uno Prendi 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 Non c'ho lo cildone Cildone è da fuori Ah scusami Posso prendere Così niente Mi conviene dare dentro Cd quello che abbiamo ammazzato Mi dicono è un amico Dei i noob Ah i noob channel Bella per loro Bertram è un loro amico Presente Return Manuel è il fratello Di uno di loro due Sì sì Ok esatto Vai 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 Rompiamo tutto ragazzi Siamo 16.000 spettatori Ma quanto siete grandi Da uno tantissimo Ma siete incredibili raga Forza con l'iscrizione Siamo 542.000 No aspetta What Youtube mi ha appena tolto 600 iscritti F da un momento ad altro Buono buono Ma avevano avvisato Che stavano facendo Questo però lo preferisco No ne ho 15 Vieni Oh no c'è di racconto Scusami Vieni F Aspetta però Abbiamo più materiali Ma più possibilità abbiamo Sì hai ragione Però pensavo che ci Poi riusciassero Quanti mazzai Quanti mazzai 1.4 Io ne ho In questo momento 1.2 Bene dai Sei messi più o meno uguali Ci sei Non ti ridavo manco Se ne hai 10.50 Ahah Quanto fai schifo Davvero tantissimo Sei vergognoso Aspetta Sì sì C'è per andare Noi attenzione F Vola Volevo Volevo No Non prendiamo un uguale Scusami Ho sbagliato Non sapevo che dovevo guidare io Per questo Vai Ok E fu il serio Sì Buono Balliamo Turbulento Ovviamente Regà È troppo fondamentale Sto ballo in queste partite Ti può cambiare la partita Perché con questo qui È difficile ciocchinarti Reggins è morto Reggins è morto Regà Grazie che leggete la chat Qua sotto Io purtroppo non riesco Bella Gabri Reggins è morto Sì l'ha scritto anche a me Hashtag forza blaze Grande bomber Bene Edoardo Comunque festiamo la seconda partita Sono già le 21 e 38 Io te lo dico Alle 22 e mezza 23 massimo Devo staccare Io regà domani c'ho scuola Ma vi rendete conto Questi sono pazzi 65 E qui mi sono lanciato E tu dico Anche te è giusto È bianco Uno è bianco Morto Grandissimo Buono Qua c'è un medikit Puoi portarlo? Sì È al posto delle bende All'altro l'hai mangiato te? No Che fine ha fatto l'altro Che erano due? Non lo so Io ho fatto stacca uno Io ho tolto 65 da lei Comunque quando ti lanci Chiamamelo perché io Non mi ero lanciato Ah non ti hai rinanciato? No ho visto Ti hai rinanciato Andiamo a prendere gli aerei qua sotto bro? Eh ti ho fatto Infatti io mi sono lanciato Perché non ero sicuro Bella fede Andato benissimo Regà vedete Con F in squad Insomma Bel team Dai Dai Io comunque Vi giuro Sono troppo in ansia Perché È il mio primo torneo Aspetta Hanno attento a non prendere danno a caldo Esatto Esatto Proprio quello che sto facendo Aspetta No L'albero a 50 Nagio a me Ci sei? Arrivo Arrivo Andiamo Saliamo ragazzi No sono dietro Va bene va bene va bene va bene Turbolento Papà Papà Ciccio è morto Daglie Bella 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 Mi dispiace per Ciccio raga Ma Ciccio in In che squad è? Cioè con chi è? F dei visti? No no Ma non ingaggiamo Non ingaggiamo Scherzavo 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 No no mi spara No mi spara Dove è il turbolento? Grazie Ce l'abbiamo davanti eh Ho preso 90 Ah ti sei lanciato? Sì No F Non mi ha fatto aprire il paracadute Il paracadute Dai raga avete visto? Io non posso morire così Che bel gioco Ecco raga che bel gioco Non mi ha fatto aprire il paracadute Ci sei grande F Io mi sono lanciato dall'aereo Non mi ha fatto aprire il paracadute Non mi appariva Primi spazio per Aprire il paracadute O dire così non è bellissimo Difatti Dai basta raga Ma che è sto gioco? F Il resto di voce Sei morto per la safe bro Non ce la faccio ad essarti Sì o c'ho medikit C'ho medikit Non ce la faccio ad essarti Mi stanno usciando No cavolo Dai raga ma che palle sto gioco Che palle sto gioco E' fastidioso L'epic deve fixarli sti bug Basta Mi dispiace Mi dispiace Perché l'epic deve fixarli sti bug Vediamo F F No raga è morto No E fe Che laggata Oddio ti ho visto E to Sei Vai da Ricky No raga non è che laggano i server Non mi era proprio parso il ta Vabbè siete fortissimi bro Uno di vita Oddio 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 Uno di vita Però quella laggata non l'ho capita E fe E fe Io sono morto cadendo da un aereo Perché non mi faceva aprire il deltaplano Stai zitto Zitto proprio Per favore Ti giuro Sono nervoso in una maniera impapunibile Diciamo no ai bug Diciamo no alla epic Per favore No 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 Cavolo Cavolo Oddio raga La vedo male La vedo male sto game Però Oh intanto Non ci siamo classificati male Questo è importante Più o meno Beh vabbè Hashtag un HP Raga Non ci credo Non ci sto credendo Io vi giuro raga Vi Lo sapete Che Sta vincendo per un HP Lo state realizzate Ma che cavolo di roba Perché non sto zitto Simo 97 Oddio quanto tempo fa L'ho seguito Simo 97 Mamma mia Tre stati fa Ma Quella legata Era un problema mio O di È un problema tuo Ma non ci credo Non mi è mai successo Allora sarà stato di sempre Perché io l'altro Non mi è mai successo Però E vabbè Regà Sarà proprio il prossimo game Non ci siamo classificati Ma Cioè Non è stata una brutta partita Tutto sommato Abbiamo fatto le nostre Quante kill Cinque Beh Cinque kill È fe Cinque kill Insomma Vorrei dire Bella Dario Bella Claudio Ma è uno skirmish tipo È un torneo Quindi ovviamente Regà dobbiamo giocarci alla safe È normale come cosa Tanto vi ricordo Ragazzi mi raccomando Iscrivetevi Obiettivo di oggi 544.000 Molto molto importante Io vedo la gara Io vedo la gara gente Senza che Epingo 30 Perché Vabbè Eh sono i serve privati Questi qui sono i serve privati È un difetto dei serve privati Io regà vi ricordo Vi ricordo che la nostra morte È stata ingiusta Perché Io La mia morte è stata ingiusta Perché Li mandati dietro al live Di tipo Tre secondi Tre minuti Vedete io che muoio Perché non mi fa scendere Dall'aereo Cioè Io premevo 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 spazio Ho quasi rissuto La barra spazio Di c'era quanto forte l'ho premuta Per aprire il deltaplano Io non me lo facevi aprire Bella Tommaso Non mi appariva proprio il messaggio Ci sono morto pure io Stamattina Ma è uno di fianco Non lo seguo Ah no È un amico Ah ok Ho detto È un problema Bella Viva Bella Roberta Wow Raga Wow Wow Vediamo come finisce sto game Metto un attimo di musica Così almeno Riprendiamo Attenzione fight Versimo E Ma che perché c'è Uh L'ha distrutto L'ha polverizzato L'ha polverizzato veramente Dimo X Chi è questo L'ho già sentito Vediamo L'ho già sentito Questo Dimo X Non lo so Sono tristi Ora Noi raga Non sono triste Sono deluso Dalla Epic Sono sincero Perché Morire in un torneo Per un bug Ti dà proprio No Si è abbassato Dicevo Ti dà proprio fastidio Ti dà proprio fastidio Quando sei sceso Hai preso spazio Hai premuto spazio Non dovevi Secondo te Con qualità Sto sia per delta Plano Bru Sei com'è Vai di mo Non so chi sia Però tipo per lui Ok Ok Simo ce l'ha fatta Che l'ho Prossimo Arriva un altro team Uh Bravi Bravi raga GG GG Beh Danilo Dimmo un amico di Power Ah infatti Dicevo Eh lo conoscevo Anch'io di nome Vienzo le torre Beh Tio Avete ucciso da Teco Davvero Non lo so Cavolo sono delle bestie questi Asgara lo di noba C'è anche Stormi Lo sapevo infatti Bella Storm Peccato Stur Bella Loki Asgara 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 si Matteo Fire Un Matteo Fire Davvero Quanti vecchi ricordi Raga La 6 Faresse veramente piccola Cavolo Ho detto Non ho osservato Lo stesso player C'è ucciso Lo stesso player Probabilmente C'è almeno No aspetta Non hai detto A te Chi ti ha ucciso Bella Fede 2 ore 29 Ah Stavola capirlo Lì Tu Grazie Siamo A 97 E vi è partito Un hs Eh avevo un hp Cosa volevi fare Di vita Eh vabbè Bella silvia Da quando ho messo La creativa I server E le connessioni Che sono diminuite Ah No aspetta In che senso Eh c'è anche Diego Abusivo Sì probabilmente Sì l'ho visto L'ho visto Diego Abusivo YouTube Si chiama Grande Diego Oddio Quanto toglie sta safe Yeshi Porca Miseria Steffa Regal Non so che fine ha fatto Tir le srap Tir le srap Di massimo Quano 13 Sì Sto devastando F Dobbiamo giocarcela Più safe Ma Siamo morti Perché Il gioco è bugato Siamo morti Perché il gioco è bugato Sì è vero Perché A me è mandato Quella Quella connessione Interrotta C'è In chat E c'è stato Uno spam Proprio di bug 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 No Ma morti Che ha vinto No Oh però guarda che c'è Sì sì Quello di che ho ammazzato io È morto Che l'ha ucciso L'ha ucciso Quello di clash Le bronze No è morto Checco Anima C'è anima Ha vinto le bronze GG Eh le bronze Bella per le bronze GG GG Complimenti a lui Raga lui è veramente un pro player Bravo Bravo La prossima è nostra Hai capito La prossima è nostra C'è niente da fare Se non abbiamo problemi con questi bug Se no abbiamo problemi con il gioco Magari Abbiamo giocato bene Ho 15 anni comunque raga Per chi non lo sapesse Bella DJK Grazie ragazzi a tutti quelli che stanno iscrivendo Grazie mille a tutti E adesso farò come al solito appunto Un giro di saluti Bella Stefania C'era una musica che ci dia più carica Vediamo No Questa Questa Dai Dai Gli estetieri ci sono Non penso Raga non penso Bella play Scusate Bella player Annunzi Ci dispiace perché non è riuscito ad entrare Va bene Va bene Sono riuscito quindi Non c'è problema Non c'è problema Allora Non c'è nessun problema Raga vi ricordo Tasto per abbonarvi Di cerco tasti iscriviti Mi raccomando Adesso metto la chat Solo un attimo abbonati Vi faccio un po' di domande In modo tale che appunto Tutti gli abbonati Mi possono rispondere Bella Daniele Bella Checco Allora raga vi ricordo Terzo game di oggi Partita numero 3 Mezzo normale Quindi mezzo normale F Ci dobbiamo fare Sì 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 Io sono curioso di vedere la partita 5 Sono curioso di vedere la partita 5 Veramente Cioè step Per arrivare alla partita 5 Si farà a mezzanotte Sei sicuro? Sì Ma se siamo due partite Ne abbiamo appena finite due Fani altre due Come Ah conta pure la prima? Eh certo Alla 5 Allora si faranno le 11 Sì 11 più o meno Eh infatti Dai 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 Bella Roby Grazie raga Top di un tour di oggi Chi è? Vediamo un attimino Chi è? Il grandissimo Che ha donato di più oggi Con 50 euro Player Gamer Piper Un grande bro Grazie mille Veramente Quaricini per te Sei veramente il migliore Io non riesco a stare fino a mezzanotte In realtà nemmeno io Raga infatti Stacco Sta alle 11 Raga basta Bella Nico Bella Loki Bella Manuel Sei pronto F? Sta per dare la password Sono pronto Sono pronto No Sta scrivendo Dai Rimetto un attimo Il chat per tutti Raga perché Voi sapere che cosa ne pensate Di sto troneo Comunque Questa partita Mi è piaciuta Oh Nico Te devi guardare Come sono morto Nico Devi guardare Come sono morto Praticamente Mi stavo tirando giù dall'aereo Non C'era un bug Che se io premevo spazio Non ma pariva nemmeno Apri paracadute Non potevo aprire paracadute Sì Succede Sì ma non in un torneo Cavolo Poi vabbè ho perso Ho perso i 10 di vita Perché Tra poco avrò messo la nuova parola chiave Quindi dai raga Nei questi cittadini Cosa c'è Folletta Raga scioppiamo Sapete che voglio di scioppare Folletto Folletta è figa E' male Come skin Colpo da maestro Anche carina Come skin Bella Christian Stratta a meditare Oh che è stato Malaga Ma hai fatto opposta Malaga Cos'è Cos'è che lagga Stratta a meditare Guardalo Sembra che lagga Ma cos'è Ma pensavo fosse il mio gioco Ho detto dai Adesso inizia la gara tutto Ennaggia Bella Nix Sì raga Questo torneo è stratattico Allora Terza partita di oggi Mezzo normale Dai Bella Vector Grazie mille per esserti iscritto E festi o p Sì E festi o p Rega Non c'è niente da fare Festi o p Intanto vediamo Andiamo vedere un po' Di news di Di fortnite La spada Rega Comunque nessuna notizia Per ora E' incredibile La spada Nessuna notizia Vediamo raga Gli altri streamer A che punto sono Allora abbiamo Vediamo se lo scordano La spada Io voglio vedere Se ciccio c'è Sono curioso Perché Alcuni mi hanno detto Ciccio c'è Altri ciccio Sì sì c'è ciccio Rega Che cacchio state a dire Ma no no ciccio Ciccio ho messo La live Rega che è stra Ah si sta facendo Una partita normale No niente Pensavo avesse messo La live strana in ritardo E andava contro le regole Infatti ho detto Non si può fare Cambia skill No raga Questa Questa skin spacca Se volete posso mettere Cioè non è bella Però Per un torneo È perfetta Posso mettere Milite teschio Anche che è molto minimale Mi serve una skin Raga La cosa principale È che non deve avere Niente in testa Tipo Bruttissima Cioè non è brutta È bellissima come skin Ma non adatta al torneo La meno adatta è questa Che cosa c'ha in testa L'impalcatura Vabbè Chi è chi è Chi è Eee Skin Metto questa bro Testa più grande di questa Si muore Ah Vorrei sentire Ah Return con shiny Comunque T-Y retro T-Y shiny Raga Passiamo un indovina Il ballo challenge Mentre aspettiamo Vai F Fai un ballo Io lo devo indovinare Senza che lo vedi Eh Dimmelo Ah ok Ok sei pronto Vai Eee Eh vabbè Il nome Eh Aspetta Lo so pure io Eh sì Lo sai perché l'hai visto Aspetta No no lo so Lo so Aspetta con la password Eee Qualcosa tipo Scatenato Qualcosa del genere È possibile Ballo sfrenato Ballo sfrenato Ok vai C'è andato vicino Dai Eee Mettili pronte F Sono ci sono E questo invece Eee 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 E' quella lì di Dammi tu cosita Quindi Cavolo Non mi ricordo il nome Regà Non mi ricordo il nome Eee Io non ricordo Eee Io non ricordo Questi balli Sono quelli Che non vedo da un botto Bella Gianni Buffo Buffo è vero buffo Questo qua Mi devo indovinare E' quello Ah ok Vai un altro Star Star qualcosa Star power Star power No 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 Star power No no Dillo Cuore vero Star power Eh non è star power Cuore vero Star power Star power Fregato Star power in inglese No bro è true No true love No è star power Oh bro l'ho visto oggi in inglese il nome Ma veramente star power Star power Star power Sì è star power Eh star power Cuore vero Sì è potenza stellare Eh non è potenza stellare Ah non è potenza stellare Eh appunto ti dicevo Ah no Potenza Potenza stellare Ah no Cavolo Potenza stellare Eh dove stavo Potenza stellare Pensavo star power Cavolo ero Sicurissimo Oh giocatore ancora 308 Eh Chi è il matto Che ha Dai Chi è il matto Che ha mostrato La password Eh mi sa Ma che Siamo pazzi Ma che 308 308 Eh vabbè Oh 73 Interessante Bug Bug sicuro Adesso a me mi da 73 Era bugatissimo Mamma mia Non credo eh Sì sì Adesso è da 73 Eh no Quello lo vedo anche Però di comunque Era bugatissimo Sì sì Era bugatissimo Tipo Amici Amici Che dicono Amici Che dicono Amici Che dicono Amici No 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 Non penso Sono tutti Streamer Tutti Capito Qualche Amico Di streamer Ha detto Qualche Amico Di streamer Di un amico Di streamer Di un amico Per 30 secondi Si parte dai Ragazzi Se siete carichi Mi raccomando Raga Una saga Forza Blaze Se siete carichi In chat Bellarmir Stepney non c'è In questo torneo Bella Manuel Bella Vincenzo Quante richieste Raga Vai F Fammi un altro Di ballo F Fammi un altro Di ballo È però veloce Che sta partendo Il server Ehm No È il nome Non lo so Come è fatto Saperlo So che skin è Applauso da golf Per qualcosa del genere Da golf Applauso da golf Sono un grande Quindi non so Come ho fatto Ricordarmene Ti giuro Non hai parato Anche se sta in live Non hai parato Aspè No Ah l'avevo letto È vero Avevo letto Cioè Avevo aperto Il menu per le moto Ma non avevo fatto In tempo a leggerlo Però Ho capito qual era Domani si fa a scuola Sì raga Che schifo Veramente Dov'andiamo Ehm Raga Decidete anche voi In chat Allora Ehm Che non si vede Il server No no Che che è quella roba Via brutto Come la Ma come Il motel Però allo screen Ci c'è un team Che esce Salena Scende sempre al motel Perché è brutto Ehm Non possiamo andare Nella città grandi Non possiamo E poi magari Cioè E poi è più possibile Che troviamo Team qua a motel Che a parco pacifico Che poi F è sta cosa Del server privato Però senza di lei È brutta Perché veramente Potrebbero stream Sniperarci È veramente brutta Sta cosa Contando che sono tutti quanti Streamer Magari È difficile che accada È vero Sta cosa è difficile Che accada Però Io c'ho anche meno Di led Efe Sai che si potrebbe andare A passatempi Se nessuno ci va Efe Non c'è nessuno A passatempi Purissimo No No ok c'è uno C'è una passatempi E ce la fai A morire a motel O sei troppo basso No ce la dovrei Ce la faccio Ce la faccio Ce la cammino in mezzo Le montagne Ce la faccio Ma dove vai Ce la potrei No non ce la faccio Ma dove vai A zappar Vabbè Ci vado vicino Di mattoni Io mi amo Che non venga nessuno Io non posso Speriamo Perché rischiamo Di morire tutte e due Senza armi in mano Tranquillo Tranquillo Ti vai a ruttare Intanto mi faccio C'è un po' di materiale Quindi Ombro non mi scappa Rutto Ti scappa Rutto Mi scappa Rutto Oh cavolo No stai scherzando No vabbè Sono morto Vuoi scherzare E feci un rift Prendi rift L'ho visto L'ho visto L'ho visto L'ho visto L'ho visto L'ho visto Efe veloce Efe veloce Attento Hai visto Sta arrivando Sta arrivando Da te E sopra di te Ma è stupido Quello non ci vede Rift 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 Vai via Dove andiamo Verso ieri Qua sopra No c'è un tizio C'è un tizio C'è un tizio Ci so che andare A montagnole Proprio via Oddio raga Oddio raga Andiamo al castello Ammazzarlo No mi sbarano Non c'è loro Ok non mi prendono Andiamo al castello Andiamo al castello Se c'è qualcuno Madonna mia No non c'è nessuno Dai Che al castello C'è qualcuno Se c'è qualcuno Disinstallo sto gioco Che è sta roba Siamo in 70 Ok per carità Non si è nemmeno in 100 Per carità che adesso Tutti fanno lì Tra i giardini Però Riga Ok se ci vede Quell'aereo ci pusha Fai attenzione Io non vedo Emano l'aereo Fai te Bella Lorenzo Però penso che sia partito Da là Insomma Immagino Bella Antonio Uh bella 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 questa Avviato Sono un po' in attenzione Riga Vi devo dire la verità Infatti vedete che non gioco Freudissimo Ragazzi ho detto di non dirmi Dove scendere il die Ma hanno detto di essere Ciccio Ce l'abbiamo molto vicino Ce l'abbiamo vicino Vicinissimo Ma come E allora L'ho visto E quelle due casette Ciccio sicuro Mannaglia L'ho visto Riga Ho visto Ciccio In sto momento Vabbè Riga che ci possiamo fare Se ci dite dove va E se tef Mi dici che è qua vicino Io ho fatto a fotta Eh Nazza voglio Allora Io non lo pusho Perché No 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 Cioè nel senso È brutto È rispettoso Verso di lui Mi sta proprio Ma fosse qualsiasi altra persona È rispettoso Che voi ci dite dove Se ti fate ragazzi Se me lo dite Mi fate È proprio brutto Che non pushare la gente Quindi Bello 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 Pumpa De nonno F come sei messo Io una mitraglietta per te Quanta gente ci sta qua a montagnole F ho una mitraglietta per te Ci sei? Eh sì sì La gradisco Eh te l'ho lasciata lì E lì guarda La vedi Lì guardo Lì guarda E farla sempre lontano comunque Non la trovi? È lì mezzo Mezzo Certo che è difficile spiegare in sto gioco dove qualcosa Aspetta È lì è lì Cicero a te No regà non lo pusho Cicero Mai allang Aspetta Aspetta Ma vabbè come hai fatto a non vederlo F Ti giuro te hai qualche problema Hai gli occhi Fatti curare Ma davvero non la vedi Ma davvero? Ma lo fai apposta Oh no Regà Stanno facendo un montagnole? Quello è ciccio sicuro Potrei tirargli un colpo che ce lo ricorda però Mi dà fastidio solo perché me lo avete letto voi regà Mi giuro Hit bianco Hit bianco Aspetta Eh ma allora te lo stai tanto mannaggia te Ebbè questi qua li ho visti F qua sono tre portali Non so cosa dirti Aspetta Prendo questo alberino Comunque sono due team sono quindi Non è detto che Ah si esatto Sono due team Eh fe potremmo prendere i portali e pusciarli eh Ti dico la verità Pusciarli? Sì Andargli vicino Eh vuol dire andargli vicino Vuol dire che io non ho mad No bro Fermati non voglio morire Ok Scherzavo Eh lì c'è lo scudone Alla vending Dove? Eh sta bene là Non ci abbiamo madri Ciccio ha chillato stormi Eh rosso rica che ciccio ha croce via Stormi è morto Ah ciccio ha ucciso stormi Ok è rimasto solo ciccio eh Si può fare Si può fare Ci sei? Andiamo Andiamo in safe Sì sì c'hai ragione Andiamo in safe Aspettiamo Naggia te che l'hai già preso Eh Ce n'è un altro Dimmi che vuoi Dimmi che serve Aspetta dove sei? Ok Sì verso safe Ok ciccio sta arrivando È ancora lì eh Buono 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 Guardate per scontato che c'è lui Sì è ciccio per forza Ma non è che perché la gente ha detto che Ma c'era Erano due team che si fightavano Han detto che era vicino a noi C'è un aereo Un aereo non ho utilizzato qui bro Ah non è utilizzato È atterrato lo vedi? Andiamo sulla casetta Lo vedi? È utilizzato e come invece? No 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 mi spara mi spara mi spara Ma ha tolto un botto e fe 40 per due bro Ho tolto anche un botto però È one è morto L'ero dietro Se mi prende sono Finito Questo muore grazie amico Morto Grandissimo e fe Bella 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 Mi è piaciuto Hai colpi leggeri bro? Non è ciccio Ciccio crocevia Eh lo so che questo qui non è la ciccia raga Col colpi leggeri Che li volevi? Sì Sì Se li ho ma te ne posso dar pochi Va bene Mi prende nemmeno qualcuno Vieni qua ci sta No ci sta l'altro aereo Va bene prendiamolo Mi sa che ciccio arifitato Non lo so Hai ucciso i bob Chi è i bob? Non lo so Non ne ho idea No Se mi faceva danno l'aereo L'egravo una vetoria di quanto scriveravo Vai sali Salta su Hai ucciso Matteo Hs Ah ha ucciso Matteo Hs Ah gg Probabilmente si era lui Penso Non lo so Avete fatto team di Matteo Hs Sì infatti Vai Turbolento come al solito E ciccio Mi sa che quello lì che vuole è ciccio eh E' andato verso parco Ah vivo player Ah Beh la vivo Vora più in alto Vora più in alto Hai visto uno Sì sì però non ho scendere Non ho scendere Nel dubbio una bombetta Gli ho tirata Non rilanciare Non sprecarle Beh E perché tanto Non c'è solo uno Sì infatti Madonna Quanto casino ho fatto con una sola bomba Prendi questa cassa bro Prendila Vai Aspetta Ok vedi che ora mi si è aperto da solo Per esempio Parca di te Siamo solo queste Prendi anche le granate a questo punto Ho tutto quello che possiamo Sali sali veloce Sali veloce Non posso salire Arrivo F mi sta laggando E te lo dico Questo è server sicuro Era Matteo Kess Era Matteo Kess Pamm 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 Può iniziare le feste nell'altra scuola domani Pamm Domani ragazzi giochiamo a Tombola Oh se riesco faccio una live su Instagram In cui giochiamo a Tombola in classe Ragazzi seguitemi su Instagram Mi chioccio alla captain blazer officer Mi raccomando adesso In questo momento che siamo sull'aria Non stiamo facendo niente di che E qui Scendi 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 Non stiamo facendo niente di che Dov'è Ok Eh magari Io sono sceso qua per prendere l'aerdrop qua sopra Buono bravo Ma te quante ne sai Efe Quante cacchie ne sai Tiro giù l'albero Dov'è l'aerdrop Efe Però guarda Dov'è l'aerdrop Ah Ma scherzi Vieni qua uno per te e uno per me Buono Buono aspetta che voglio prendere questa qui che ci serve Ok Guarda che la torretta montata qua mi sa che è stra OP È qualcosa del assurdo Sì sì tienila tienila Sì sì a voglia se la tengo Matteo Chesse ha detto che siete fortissime Madonna Bella per lui Eee Tuturur��는 Ed aereo? Dove è finito? Non lo so l'ho fatto volare via Stavi sparando a ciccio? No Apetta Mi faceva danno Mamma mia rega voi non avete idea degli insulti che tiravo l'epic Grande Hai turbo Turbo Sì, vai Ci sei? Ok Mi hanno inquietato le personali di Captain Blade, ragazzi Cos'è che hai fatto? Mi hanno inquietato le... Oh, perché non mi... Ah, ok Non so che cosa è successo Ci sono Marze e Gabbo Ritorna con Dott... Eh, raga, mannaggia voi Ritorna con Botti Undici Ho fatto tantissimo Lanzati Lanzati Grande Bianco, morto Grande Nova, chi è Nova? Ah, hai ucciso Nova, davvero? È l'organizzatore del torneo Hai ucciso l'organizzatore del torneo Vabbè, Domenico, 2 euro Ci c'ho la skin dell'Elfo Bro, dai, basta Grazie, Bomber, per la donazione Ma... Regà, non spoilerate, per favore Vi chiedo solo questo Perché è brutto per gli altri semi È proprio rispettoso A mio parere Switcha, switcha, bro, switcha Switcha, switcho, switcho Cioè, mi fa piacere della donazione Bro, ti ringrazio veramente tanto Però non spoilerate Eh, probabilmente sì Non l'ho sentito Infatti, non è che l'ho in colpo Però, regà Vi dico solo Non spoilerate E però ci sono ieri freschi Se vogliamo, eh Dove stanno ieri freschi? Sinistra, sinistra, sinistra Dai, regà Che si può portare a casa questa, eh Adesso l'ho buffata Adesso, allora Te a terra Con calma io mi lancio Ok, vedi che adesso Mi si apre per cadute Guardate, c'ho una paura Io quando ci vengo Eh, infatti Via, via Buoni, buoni, buoni Perché non può non aprirsi Si apre automaticamente Ah, bro, medikit qua Vieni Mamma mia, che fortuna No, regà Mamma mia Ma che roba Cicc è morto Ok Cicc è morto Gli sta guardando Jumpy Tec Bella, Jumpy Bella, bro Gli passo un GG a Jumpy Aspetta GG Ecco perché non mi guardano Perché ho tenuto il team Mannaio, a modo di chicco Vai, F, sali Arrivo, arrivo Oh, le bronze l'ho ucciso Retro Ah, è vero Retro è morto Trammortito, tramortito Vai, switch Vai, ci sono Aspetta Devo fare Turbolento Pam, pam, pam Pam, pam Bella per Jumpy No, non c'è nessuno Regà, comunque Ballo turbolento Perché così Sono meno prendibile Dall'aereo Dov'è? No, zette Tutti ieri giù Prima che ci guardano Vai, grande Ho aumentato 30 Io ho dato pure 6 hit All'aereo 5, 6 hit All'aereo Dai, dai Ci ha distrutto No Ti sei Non riesco a buildare Regà Cacchio, sono spastico Però mi devi la mano Eh, lo so Sono qua stato Attento No No Mi è cascata in faccia GG Annalizzarlo Ucciso Bravo Bravo F Ha ucciso Yarl Scherzi F Ha ucciso Yarl Stai scherzando Se riesci a resta Mi ha fatto Di vita Niente Niente Bella per F Bella Goran Tearless Quello è il problema Che è quello il problema Madonna mia Vaglia E frega Hashtag Vaglia Efe Va bene Brematti Bella Claudio Bella Leo C'è Matteo Che è sentato Bella Matte C'è Sicuramente In tal caso Lancia C'è un bel buono Dai Bella Super Ashtag Vaglia Avete fatto Spro Della chat Ci sei Io ci sono Sono due Questi e uno E uno Jarle è morto Yarl è mo È vero che ti hai ucciso Yarl Efe Sì un grande Ti giuro No rega Non è che non si stima La webcam Qua sotto C'è la chat In questo modo Voi la vedete Me l'avete chiesto voi Buone Bell'Erik Grazie ragazzi Qua che stanno iscrivendo 26.500 26.500 cosa? Efe 26.500 cosa? Ma che cavolo Bella Roby Ah ma ero mutato Sì infatti Infatti ho detto I miei orecchie Hanno sentito dire Il 5% Di 530.000 Non potevano rispondere Ma come fai A saperlo? Rega Efe 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 E' meglio così la fotocamera Perfetto E' sparito E' proprio E' sparito davanti ai miei occhi Ci manca solo che F Kill la power Regà In quel caso sarebbe proprio di bastante F è camper Cioè a sto punto Non so che altro dirti Sì è l'unica cosa Guarda la safe Sì esatto Guarda la safe E te stai qui Intanto con calma Luttati la tua bella roba Tanto fanno tutti così Perché siamo in venti Nell'ultima safe Guarda quanto è grossa sta safe Dimmi se potremmo essere in venti Eh La dovresti a push a questo No 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 E' per forza Non rischiare Non rischiare Non ho ben dovuto muovermi Ok qua sotto Io regà non parlo perché Non parlo Attività di strago F Che culo Non ho capito Hai detto qualcosa Mamma mia Io sto sperando per lui Attento 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 Cos'hai lasciato giù F Cazzi Un zainzio d'oro Gli ordinati all'inventario Curati Fai tutto Efe Te la sta giocando un poco safe Ti dico la verità È vero che non c'è nessuno Però Sai com'è Sì lo so regà che mi sta Guardando Tearless Che sta guardando F Infatti sono molto felice Perché Volevo dire la verità Tearless è stato Il youtuber preferito Per tipo Sei mesi Una roba del genere Guardavo ogni suo video Si parla di tanti anni fa però Quindi sono veramente contento Proprio i vecchi momenti Che risalgono Bella vittoria Io regà non so come dovrò editare il video di domani Stasera andò a 2.000 alle 2 E dai Bella Ryan Domani si sveglia alle 6 e mezza E dai Vabbè 2 e mezza 6 e mezza Dai ci sta Ci sta Bella triplo Rekings e anima stanno teamando No 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 Cioè se lo fanno è contro ogni regola Subito fortemente comunque No infatti non penso Cioè Se lo fanno regà No 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 Brutto proprio Si rovinano solo il nome Non c'è scuola domani Per me si invece Sapete che nella mia scuola Aspetta E se regà vi dico Nella mia scuola Vi stavo dicendo Eh ma lagga troppo bro E fai le bende E le bende gli scudini Cosa fai Non c'è la safe bro Non c'è la safe Ah la safe vero C'è la safe no non c'è la safe Sì lo so Grande bravo Ah non ti voglio bene bro Non mi sparare Vai anche sotto la piramide Ah vabbè se mi buscano Dopo faccio più fatica a uscire Bella Mauro Regà Hashtag team blaze Regà per supportare F un bel like Andate nella sua live Che è qua sotto in descrizione Gli raccomando un bel like Ragazzi siamo 15500 Ancora ma io non so come fate Siete veramente i migliori Bella un calabresa Due euro Due euro Lo skirmish Eh bro Altro che skirmish Lo skirmish Ah si te lo skirmish Sì lo skirmish Vabbè 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 lo skirmish Lo skirmish Uh No era checco Eh fei hai checco di fianco Avevi checco bomba di fianco Ecco chi era Guarda che ti ha Ti ha Ti ha fatto un bel pomare prima checco Eh sì Ecco chi era Bella brunio Oddio quanto è alto Non mi fa capire quanto è alta la cosa È vero che è fastidioso Brunigio Fai Fai La torre enorme Quanti mattine lei Ho moltissimi Sto aspettando Cavolo 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 Come è scritto team blazer bro Team blazer Come lo dico Sei dirimi di sì Bella magma No Checco è morto la tempesta Gigi Mi dispiace per lui regà Perché se le cavate Sta bene Oh Diego è morto È morto Diego Quello abusivo Gli scudini fantastico Ragazzi so che non Intraggiamo tantissimo Ma devo Ovviamente guardare Far concentrare Bravo Valò E band F c'è le band Ma non mi deve farlo Vabbè sì Adesso non ti serve Bella supremo Sprego giga per guardarti Grazie Pietro Gradissimo Bella yellow Ti sei Abiti a rimini vicino Bella la jump F non ti convene Riordinati l'inventario È ordinato bro Ok scusa Bravo Ok Bella zacca Bravo Bravo F Mamma mia Se si porta a casa Game Oh mio dio GG È la terza partita È nostra La terza partita È nostra È nostra Questa bella Gigi Regà sono contentissimo Sono veramente contento Terzo match è nostro Regà Mi merito un'iscrizione Anche F ovviamente Se la merita Link in descrizione Assolutamente importantissimo Ci meritiamo un'iscrizione Un bel like per questo Regà Ce la meritiamo Dai GG per Efesto Regà È il terzo game Nostro Oh non sembrava Non sembrava Non sembrava Bella 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 Managgia lui GG Regà GG Veramente Mi è piaciuto molto Sto game Siete 16500 Ragazzi Tutti da F Mi raccomando Link in descrizione Vediamo quanto riusciamo A farlo arrivare Dai F quanti spettatori sei 1500 In un attimo Non l'ho visto Mamma mia F facciamo ancora L'indovina ballo challenge Vai vai Andiamo Aspetta Basta la musica Ok Vai Tanto vediamo la prossima partita La chiave del server Il nome è difficile Se non lo conosci Ah Orange justice È bravo Io non lo conosco in italiano Però sì giusto Bellissima Giustizia arancione La prima skin della season No il primo ballo della season 4 Bella Eddie Bella Lorenzo Vai Fallo Fallo di nuovo No aspettate È oscurato Pam 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 No aspetta Rifallo 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 Non scomano anche il nome Quella che hanno dato gratis Ho capito chi è Ah Quella che hanno dato gratis Nello shop Quando Insieme alla skin del pollo Capito Ce l'ho Ce l'ho Otmarat Bravo Ovviamente l'ho guardata Bella sticchio Eh sì Questo è impossibile Vai Fai un'altra Io sono povero bro L'ho finita quasi Questa vai Che è sta roba Non lo saprò mai il nome Ma cos'è Come lo avrò Non ho idea Non ho idea proprio Penso che Letton Comunque sia felice GG Gli scrivo Vedete che cosa mi risponde Vedete che cosa mi risponde Ah Gioco Aspetta Tanto la capire Con il capo Un po' in chat Bella the flash Bella Dani C'è la parola È arrivata Ti ho fatto i complimenti Bella E' bravo L'hai messo E' tra parola Ragazzi Ma io l'ho rimasto Con un 30 HP Adesso ci penso Mamma mia Mettili pronto Ma vai vai Ci sono Ci sono È scritto capitano Bella Manu Bella Paolo Bella Roberto Sì la credo che l'ex insieme Bella Chris Chris E GG per voi GG per voi GG per voi Vediamo un po' Sizzo Com'è Tutti Tutti Quanti siamo in coda 51 Dagli Regà Un'altra partita Questa qui la quarta Non escono In chat Gli alert Ok Che sta facendo Subscara Faccio il test Da quant'è che ti Ok Ok Boh Non lo so GG raga GG I Phoenix Sono delle bestie E' ferga E' me Allora Ufficialmente Nei Phoenix Però Gioco anche con noi Che siamo dei blaze Anche Red Nel Regan Siamo fatti Complimenti E' so contento Ragazzi Per tutti Mi è piaciuto Questa battita Vedere che siamo forti Bel GG 79 Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille per l'euro Non importa infatti Chi è più forte Regà Basta Con sta Con sta cosa Con questa concezione Non ha senso Oltre al fatto che Non puoi stabilire Chi è forte Da un torneo Del genere Non puoi Soprattutto Non da 5 partite Esatto Esatto Vediamo raga Che punto siamo Partita 4 Mezzo normale Dai Questa è la partita 4 Giusto stefe Dobbiamo fare Sì la quarta partita Dovremmo fare Ok Dai Bella cravido Adesso raga Dalle 10 e mezza Dovrò parlare Molto molto più piano Perché Sapete come 10 e mezza Ah è vero Mica Grazie Dawit Per la donation Grazie bomber Grazie per la donazione Bro Lo sai come mi hai chiamato E festo ma non lesto Ma no il mio nome Comunque è proprio Il tuo nome è tutti È incredibile È incredibile Aspetta voglio sentire Cosa stai dicendo Andiamo Delicatissima Ah è con Kodomo Yuki Magabonano Magabonano Bella 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 Tanto raga vi ricordo Mi raccomando Link in chat Per donare appunto All'associazione Per la quale appunto È stato permesso Questo torneo Mi raccomando È un'associazione Contro il cancro Molto molto importante Serve molto bello Raga se tutti voi Almeno qualcosina Ad este Dai Raga Raga Wow Fra 30 secondi Si parte Vediamo che ho scritto Su T.S. Mega bella Bru Mess Normale Nessuna restrizione Buona Va bene Il mess Dopo raga Per chi non lo sapesse Adesso siete ancora 15.000 Quindi non c'è problema Restate fino al mess Dopo raga Perché Quello di adesso Cerchiamo di vincere Ma quello importante Sarà il mess Dopo Perché Vi spiego Nel mess Dopo potremo star Solo Dove c'è la neve Quindi Considerate la mappa Di Fortnite Pensate dove c'è la neve Nel mess Dopo potremo star Solo di Pensate che roba Raga I superi ci sono Non ho ancora capito Raga Penso di sì Però Cioè Nel senso Devono esserci A meno che non siano entrati Per qualche motivo Dovrebbero esserci Bruttissima sta roba E fai dai Facciamo un'altra Indovina le moto challenge Vediamo se mi è rimasta qualcuna Io so Potremmo fare anche Indovina la skin No Questa è facile Non so il nome E' quella E' quella di questa season Quello che ballo è questo La musica Thati d'inconoscendo Dai Non so il nome F football FLAMENCO È vero È davvero È praticamente facile Va beh Vai con un altro Un altro veloci Un altro che N'attesa add server Veloci Oddio Che cosa è sta roba Ah Tutto 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 È però Non so il nome Non mi ricordo Il nome È Offa Damiano È Suddisf dakika Tra tagliermi La testa La testa Quando si è Pelati Non lo so, non ci ho mai provato Te sei pelato, è vero? Non ha 0-0 Adesso hai fatto provare a sdraiarti sul pavimento Comunque sei a 2.000 Ma sei assurdo, sei a 2.000 spettatori? Aspetta che non mi stai giocando a me Non vedo dei poveri numeri Sei assurdo Stai facendo quasi fine di me Levo un numero Bella Giacomo, grazie per l'Evrober Grandissimo Dove andiamo? Sì, potrebbe ritornare lassù Però adesso sei Però no, aspetta Io andrei o a rampe ghiacciate o a borgo Rampi ghiacciate, dicono da me Sei sicuro? No, non sono sicuro, per niente proprio Proviamo con motel Al massimo riftiamo, se vediamo qualcuno E riendiamo là sopra Va bene, va bene Sai che adesso qua in tanti Aspetta, vediamo un attimo dove va la gente Dove sdroppa Adesso dobbiamo buttarci Sì, sì, lo so C'è il ritorno Dove... No, niente Mi è andata spontanea la domanda Bella Zora Grazie mille per la donation Eh, bravo Mi ha detto dove è andato Ciccio Ovviamente Infatti i moderatori stanno arrivando i commenti di quelli che lo dicono Bravi, bravi Regà, e non ha senso giocare con voi che spoilerate È proprio brutto Cioè, non ha veramente senso Mi ha detto dove sta andando Ciccio Comunque ce l'abbiamo vicino di nuovo Se è veramente vero, eh Ciccio vada Eh, sì Infatti Sì, sì, sì Bella Z Cap ma power non c'è Io vado a questa case legno Tu attira a quell'altra Subito, subito, subito Sì, siamo i primi, sicuro Non penso che ci sia qualcun altro Ah, è un termico, raga Che brutta arma, veramente Guarda quest'altra invece Andiamo Eh, come sei messo, F? Pumpa e mitraghietta Pumpa tattico Pumpa e mitraghietta Pumpa tattico Buono Grazie mille Grazie mille Grazie mille Ciao cap Bella bro Non sto vedendo nessuno Cioè, niente Come armi Buone Nagio a me Uh, bella questa invece Cavolo Non l'hai presa No, non mi dovete chiamare adesso Gentilmente Grazie Aspetta Eh, fè Stai trascurando No, aspetta Che cosa trascurando Dimmi una mitraghietta Grigia Non hai vista? Ce l'avevo già Scutato Ok, che infatti Prendiamo Rift Non c'è vero No, aspetta Aspetta Non bro Devi piccolare Come un assassino Sì, che volevo Vedersi Solo se c'era Rift Che non Siamo Ok, non c'è Niente Scherzavo Bella raga Dai Hashtag Timblaze Mi raccomando Bella Fabio Comunque rigata Quando abbiamo saltato La live Un'ora E 34 fa Un'ora e 34 minuti fa Ad adesso Non si è mai sceso Sotto i 12.500 spettatori Siete veramente migliori Raga Siete veramente Veramente migliori Ma hanno detto Dove è Return? È vicino a noi A passatempo E ritorno a passatempo Non stanno zitti Non stanno zitti È incredibile Intanto non ci busteranno Volontariamente Quindi non ci venire Perché Non penso Volontariamente no A meno che non D'avranno visto Vincere prima Ha detto Adesso Le cose cambiano Bella Grax Il pump Avete visto un pump? C'era un pump Sul tetto What? Un pa' Qua Intendete? Un pa' Sul tetto Forse Entendono sul tetto Io ho appena preso Un tattico verde Se non hai il pump Qua c'è un tattico Sì Mi serve assolutamente Bella roba Il suo grigio Bella fra i grazi Viene per l'euro bomber Bella tua bazo Piccola il più possibile bro Sei tranquillo Tranquillo Sobbiamo di ripetare Andiamo un attimo La miniera Ah è vero Hai ragione Eh però Ah beh la sei vicinissima Vieni qua bro Vieni Grazie Mi piacciono più questi Bella Niccolò Nella live di Ciccio Non stanno giocando il torneo Mi sa Cioè So che Alcune partite Le han fatte Altre no Bella storto Beh bro Abbiamo appena vinto il game di prima Quindi sono molto felice Eh dai Su tutti gli streamer Compreso Power E tutti gli altri Insomma È un buon È un buon punteggio Sicuro Andiamo verso un attimo Chi ci sta Visto Visto Eh da nord Dove Sono ancora il fetto da Preso 36 Proviamo qua anche dietro Prima qua anche dietro Usciamo libero Busciamo 33 Bravissimo Tu sei St'ha mortito uno Bravo Bravo FM Bravo FM Bella giocata Bella giocata Vedete raga bisogna giocare così questo torneo Bisogna giocare non aggressivi Aspettare che gli altri pucino Poi in questo modo Sicuramente andiamo Lontano Come veniva a partire prima Raga Andiamo Andiamo al volo Eh no Dobbiamo prendere E ritorni a passatempie Sì Non ci interessa bro No che c'è No giochiamo con me No no ovvio Ci giochiamo per chi incontriamo Mica andiamo a Pusciare la gente assolutamente Sarebbe anche scorretto Nei loro confronti raga Cioè anche se Anche se lo facessero con me Ah ma non ci sono i rift bro Andiamo Sì sì c'era uno qua Ah sì c'era uno qua Ah sì c'era uno l'ho visto adesso Ok Bella Bella animal Samu still carry Sì Allora Allora Siamo zitti Aspettate bro No Scusa Scusa Stai zitto Stai zitto Tranquillo Vai stai più in area In area più possibile bro Hai ragione No non andiamo vicino a Aspondo Insomma non so come lo chiami in inglese Che gente che fai da leggi Non ci interessa Andiamo verso Tempio Tomato Comunque il gioco c'era in italiano C'è uno a passatempie Lo so Sono fanno fai da Sì sì e ritorno è sicuro questo Questo è sicuro il ritorno Dobbiamo ingaggiarli a noi Non ci interessa proprio Bella simulare A passatempie c'è return Lo so Ci c'ho fatto che non penso Tanto ragazzi Chi fa team Viene bannato La cosa Andiamo sotto 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 il turno Sotto il coso Come si chiama Sotto il sole Direzione Ok Sotto il sole Sotto il sole Bella Ludovica Ciccio stava facendo team con Checco Cos'è vero Aspetta è in team Oppure no Ciccio con Kodomo Yuki Bro bro Perché stai laggiù Mannaggia Che sto materializzando un pochettino Sto smaterializzando chi vedo Aspetta Devi starmi vicino bro Ci sono i grilli Chi vuoi che ci sia qua Bella forne ninja A passatempie c'è return Lo so raga Tanto Ditele un altro posto Punto Sì sto arrivando Sto arrivando Sto arrivando Ciccio stava facendo teaming No raga Spero di no Spero di no Spero di no Veramente Perché altrimenti qua è un casino Se uno inizia a partire Teaming rega Qua è un casino ve lo dico Se uno inizia a far teaming Non ce n'è più per nessuno Bella piccolo mandarino Io domani sto a scuola Mi devo alzare Presto sarò morto E invece devo ancora editare Vai Cavolo Vabbè rega Dormirò sull'autobus Qual è il problema Non ce lo vedo Bella idea Bella Matteo Piccolo è più possibile Sì tranquillo Sto piccolando come un matto Alcuni mi dicono che fa teaming E altri mi dicono che non sta facendo teaming Lo scrivono anche a me Ah Anima e Reckings Rega mi dite Ah sì ciccio team Sì 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 Ciccio stati in mando Ok F li ho visti S.O. Lasciali bene Non dobbiamo angaggiarli Buono buono Sì sì Però si stanno fightando Ok sono morte Hobbit Hanno ammazzato adesso Jar Uuu E Blink Sono Blink e Hobbit Sì Blinky Hobbit E Zamora Eh per senatro benati Non mi piace per niente Se DA Ci diciamo Ottimo di fatto Abbiamo cercato di stringerci Verso Il magazzino Sguno No magazzino Sbaglio Sbaglio Questo qua Bravo Hai capito Ho detto magazzino Comunque capito Bravo Il signor Si chiama magazzino Cioè No non lo so Eh no Magazzino è magazzino Ah magazzino muffito Non si chiama più Magazino Però vabbè È appunto profondo mi ero sbagliato anche se si abbia la 6 sì lo so rega che ci sta facendo teaming non mi piace infatti almeno se è giusto quello che mi state dicendo è ciccio team ciccio team ciccio team allora aspettate ragazzi che mi scrive c'è come si chiama c'è una passatempe che sta palamuffa ff e poi c'è un m4 blu per attimo sto contando se ci sono neanche io bono si è vero dai ciccio stati in mando pro m4 blu di dare gama no non mi serve ci sono stati in mando ma che che schifo però se io sono sincero non è per insultarne uno né l'altro ma è per divertirci perché si team capisco non si vuole vincere non è fatto per vincere ma allora che senso ha lo so che stati in mando ciccio riga grazie per me l'ho detto effettivamente ha lasciato i funghetti per la crescenza lo so riga che ci sono stati in mando basta ho capito se vabbè ciccio insieme a che co bombe l'altro se vabbè bro ascolta ma c'è una cosa e fè c'è una cosa dato che la gente si comporta in maniera scorretta facciamolo anche noi no 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 io non voglio teamare assolutamente dico solo non c'è non in maniera scorretta sono giampato addosso però ci giampano addosso vabbè chietto l'amico quel lontano è giampo da su me io porto uno l'altro è bianco eh l'amico aspetto dai dai vai f bravo ci sei mannaggia lui mannaggia lui mannaggia lui lo so riga che ciccio stati in mando con sole che ecco lo so ho visto l'ho appena visto la sua live problemi di lag vabbè abbiamo ammazzato e il lutto di quell'altro l'hai preso no scusa non l'ho preso no stavo un attimo pensando no mi viene il dubbio che sono mutato no 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 hai ragione stavo un attimo pensando ciccio aspetta che lo riguardo vi vedete sì ciccio sprofondo lo dico perché la cosa che ha fatto in min non mi piace io gioco come sì sì anche io gioco come si fosse una partita anche davanti a noi gente davanti a noi ma è scorretto non cado uno destra youtube sei è bianco bravo mamma mia attento alle trappole bro morto anche quello che non ha fatto in tempo a piazzare le trappole questo è un mostro beh sì ma si si sentono se le piazze io te lo dico attento alle ipotetiche dopo ah beh sì sì ma la cristiana altra ragazza in 13.000 grazie mille a tutti indovinate che canzone stavo cantando ci sono sprovando sulla montagna lo so regalo non è giusto che timma raga non è giusto dico che è normale è una cosa oggettiva lo so siamo ancora a 30 la servia per la piccola anche secondo me non è giusto che timma però regalo lui gioca alla fine come vuole non è che sono il paladino della giustizia il problema è che è brutto cioè è brutto il paladino della giustizia effesto ammazzato dexter è vero è vero mi sto osservando bella dai fermo purello si io ho fatto spazio via la polvere bella sta sesso quanti materiali sto sprecando non so bravo ma tu devi farli ma direi non devi spiegarli eh vabbè però ci sono andato vicino dai sono auti bello questo ho le bronzi comunque li devasta tutti io tutte e tre partite vi do le bronzi che ha ammazzato le bronzi è un mostro eh sì non l'ho mai visto giocare però me l'ho detto veramente in tanti non trovo la leve di ciccio perché ciccio regala il leve su ciccio mamma mamma comunque UF è partita di prima e l'abbiamo vinto noi eh non frega niente eh mi ricordo mi ricordo guarda guarda ti sta ammazzando tutti guarda guarda ciccio no no sì ah le bronze eh stavamo parlando di ciccio te mi dici li sta ammazzando tutti sai com'è ti ha ammazzato storm bello bello F mi tiro lo slurp faccio eh capito no scusa lo slurp me lo faccio eh no no ti ha te lo vero ti ha te ok lo tengo pure io se non lo slurp non me l'ho fatto vabbè e infatti prima di farmelo ti ho chiesto sì sì hai fatto un bravo ho fatto bravo ho fatto un bravo bro stami sempre vicino F ho trovato un rift portatile bro guarda quanto mi sei lontano mannaia mi senti? è pronto ma che è pronto bro ma lo vedi dove sto io? guardami bro bro mi fai impazzire tu belle F c'è gente davanti a me bro lo so ho visto dobbiamo avanzare un po' prima di farci so ehi sto provando da qua no eh niente non si può fa no ma sono loro questi pensavo fossero tuoi ma questo trovato sopprato 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 niente usciano brume se aveva la mano dove sta? no sono sotto tranquillo io so che sto sotto loro non c'è problema finora termico sei tu non stai troppo qui non sai dove sono tutti i nemici ne abbiamo uno dietro comunque questo è il problema principale aspetta no ma che cacchio di raggata proprio libera tirato dove ho questo? no non lo so non stare troppo sotto tranquillo tranquillo non sono sotto sono anche più alto di te no 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 non ti sta così sopra però bro troppo in alto sono due sopra di te meno troppo io lo so ma io sono messo al limite sopra ancora perché ti troppo danno se cazzo oh muori se cazzo si hai ragione non c'è proprio possibilità che sopravvivi tanto è la surf me la sto giocando male però tanto è la surf quindi penso sempre a questo bella gate mario perché hai preso danno? perché me la sono giocata male bella pasquale ho svegliato a mettere a scala ho messo troppo in basso pensando di non prendere danno è da me è da me è da me morto ti sei rompi ti rompi io build ok ho biglietto morto oh non sei di testa roba ok mini scudi buoni buoni mini scudi no sono sono ritardato sono ritardato mentale sono ritardato quanti mini scudi hai? eh tre buono lo scildone fatelo tu che io ho più scudo vai bella Lorenzo ciccio da voi ciccio hanno detto che c'è vicino sono cinque puzzolenti bro sono fondamentali se li puoi portare bro io ho anche le lancianate sono sono mai dei puzzolenti bro dei lancianati sei sicuro? aspetta no no se hai 18 colpi no tieni prenditi grazie ok adesso sono 13 ok perfetto comunque io full mazzo veramente full tutto io full tutto pure io anche io grande cavolo io sto andando in maniera un po' troppo in prudente io una jump se vuoi no tab ho sbagliato è noccato uno quasi bravo bravo jumpiamo però quando dici jumpiamo non devi jumpare hai ragione aspetta ho tramortito comunque non mi morire per favore tranquillo ogni volta che riconosco tranquillo muoio appunto non direi tranquillo c'è gente al bordo ma dove è questo? no però non spiegare l'azzo non spiegare l'azzo eh però c'è provato a vedere dove era magari erai dietro che ne so è sprofondo al bordo c'è ciccio ah è kodomo infatti hai ammazzato kodomo yuki la ragazza? si di ciccio non è la ragazza di ciccio la ragazza che sta con ciccio hai capito è one è one è one chi è un po' di è one provo no sto provando ma rompo tutto potrebbe essere ciccio questo cavolo f ci spara anche dalla montagna ma è ciccio ho manzato ciccio gg ah c'è un altro sotto e la disco ciao ciao no somichetto somichetto grazie no somichetto aspetta no bro ma lagga troppo tranquillo sto vedendo martex bella bro raga gg f 8 kill 8 kill raga ma cosa sto facendo ma cosa sto facendo sono impazzito ti giuro ho la super potere disco disco adesso entro nella stanza ne sono sicuro vabbè penso aspetterà che finiamo raga raga ciccio è di cosa hai capito è tanto è tanto in testa dov'è morto grandissimo mamma mia raga però ci toni in quadro non viena a fare sei un bot sei un bot sei un bot cap time blazer ciao disco madonna raga buona fortuna per il game grazie user disconnected from your channel però spamma e lancia granate spamma e lancia granate attenta alla 6 attenta alla 6 toglie 5 quando tocca se non die boia 5 che scherzi oh dio attenzione no vai provate attenzione sei sei troppo alto pro attenta non sto troppo fermo attento bro 47 blu no no non ti buttare in mezzo a tutti dov'è cavolo ho messo lui la piramide non posso più guidare qua sopra non devi stare calmo non devi pensare che non fa tante kill per essere abbiamo già un po' qualcosa no solo una trappola regà boni eh ti sei cacchio è finito questo prossimo 2.2 non ti pare in gare bravo bravo siamo due contro uno e quanti kill hai fai questo regà è quando mi impegno comunque a giocare non nelle normali no boni e i messi gg 9 kill regà 9 kill bravo 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 regà le stanno vince tutte regà oh dio che senso stai a fare oddio oddio quest'anno c'hai 8 kill 9 bro 9 bravo bravo come regà qui è quando mi impegno veramente sono sincero molti di voi live lo vedono che gioco senza impegnarmi mamma mia mamma mia f2 di file gg bro bello di fila adesso voglio vedere voglio vedere ho uscito le bronze non me ne ho raccordo ho uscito le bronze ah non lo so grazie game sei veramente un grande grazie mille per i 5 euro bro grazie veramente ragazzi siamo 16 mila e 660 mila spettatori 16 mila e 660 mila madonna gg gg bella mattia regà ce la siamo giocati bene non si può dire niente sinceramente non penso di no però bellissimo bravo bravo voi sentire cosa tutti dicono che ci sono mi sta flammando sono curioso stanno flammando a noi no non lo so penso che sia una grandissima cavolata però non ne so non ne so sicuro Gigi vuoi firmare il contratto per i fanatic questa mi è piaciuta raga questa mi è piaciuta bella 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 lo so amica lo so si si mamma mia regà mamma mia regà ve giuro sono troppo fogato domani non me ne frega niente di che ora mi sveglio lo dico sinceramente ma io sono troppo fogato Ciccio ti disse regà è uguale non mi interessa bella game grazie per l'euro ma comunque non penso che mi stai regà dai sinceri penso non esageriamo la questione hai ucciso le bronze io non mi dico hai ucciso le bronze eh si mi dico hai ucciso le bronze penso il penultimo che ho visto tremando ti giuro due vittore di fila bro ma che cosa abbiamo combinato seriamente e quanti kill avevi io 7 7 kill gg hai ucciso martex si ne ho ucciso un bel po' ho ucciso allora martex disco disco ah disco bot disco bot no scherzo ovviamente bella giova siamo alla prossima password tu 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 abbiamo la prossima password mettiamo subito ridi ok non scendiamo questa roba opzioni personalizzate mettiamo questo qua questo qua qua e questo qua qua metti pronto veloce avete fatto un devasto si lo so regà allora ho capito regà che cosa stava dicendo ciccio che noi camperavamo e giocavano troppo seri il fatto è questo non è che camping troppo seri regà troppo seri cioè non abbiamo camperato in sto game come ho fatto a fare 9 kill camperando perdonatemi eh bella fede grazie mille per l'euro mamma mia regà vi giuro sto sto veramente tremando ah f è partita solamente sulla zona innevata capito ok puoi finire anche sabbie scusa spiace e anche pinnacoli tutta pinnacoli ok pinnacoli più zona innevata capito pinnacoli più zone innevata d'accordo ti più posso l'accompagnare dai regà non esageriamo dai e facciamo indovina il ballo challenge hai altri balli altri balli aspetta non so se mi sono rimasti vabbè questo è facile è quello del pass battaglia scorso no quello della season 5 mi sembra solo che non mi ricordo il nome delle moto va a capire calcoli calcoli possibile calcolato calcolare vabbè c'è andato vicino no perché non pronto e fa che è successo non so che è successo anche te sei non pronto la partita personalizzata ce l'abbiamo ce l'abbiamo e adesso ero non pronto si vai hai messo pronto che è successo non so what 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 fra un minuto si inizia ah ok no perfetto siamo rientrati non so cosa fosse successo ci c'ho gli altri team ma no regà anche su questo fatto allora loro stanno giocando for fun e noi stiamo giocando un po' più seri sicuramente perché io mi sto impegnando ve lo dico sinceramente perché è il primo torneo perché non ho mai fatto un torneo e perché la ragione in questo modo loro stanno giocando più for fun e noi invece ci stiamo impegnando sono due metodi diversi ho capito che ci sono neanche stati in mandi in maniera seria come mi avete detto voi ai prima retux returne martex team ma no e poi adesso adesso vado da returne e gli scrivo capitano no dov'è returne no chi ci ha detto è troppo ma è già giuda capito ti ha chiesto se vuoi teamare con lui ah ah eccolo guarda guarda sto guardando la sua live attimare per cosa capitano a che serve teamare possiamo fare teaming davvero si può fare teaming si 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 può fare ah ma allora a sto punto vai va bene non c'è problema va bene venite sull'altro testo vi posso dire qui eh no 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 capitano hai visto che hai fatto va bene va bene va bene va bene arrivo che matti a betta è for fun allora è for fun a sto punto regà mo vedi appena pia un'arma disco c'è una pompa da un testo no 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 ragazzi chi è eco penso ci sia da te eco non lo so abbiamo dato password grazie e tsk ok ok bella bella user disconnected from your channel disconnected du 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 cantano eeeh ma che pesco ma guarda che gruppiamo davvero quella di mia davvero va bene va bene va bene sono d'accordo va per una buona causa no regà ma le skin non sappiamo io so quella di twitch ma non possiamo mettere una skin in comune rai io so è troppo tardi è appena saltata io c'è il taxi oddio non so come chiama questo io so c'è nessuno ce l'ha come me se le costo mettere i casti si si l'evento in beneficenza le donazioni potete fare in descrizione ho capito che è for fan da quando ci c'è iniziato a timare se vince captain blazer dovrà 100 euro in beneficenza allora no vabbè aspetta in realtà si può fare 100 euro sono un po' troppi però vabbè becchiamoci tutti a happy helmet e che sarebbe in italiano non lo so borga allegro borga allegro ah vabbè un solo italiano allora ambio tre ringraziamo il bus eh troppo tardi troppo tardi ragazzi oh ma è assordato io non so come si chiama il mio è quello della season 4 ragazzi andiamo io sono capo squadra ragazzi sono capo squadra ragazzi io ragazzi sono la squadra sono la tipa di tricepilo lui sono la squadra sono capo squadra capo squadra ok va bene va bene ci sto beradario ragazzi teamiamo 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 ma quanti gacchio sono ragazzi giriamo ragazzi se vabbè non ce la faccio a girare sono troppo pazzo io voglio prendere gli aerei mannaia guardate too late too late come faccio a sapere se siete voi o qualche nemico questo dove stai tu? efesto raga uno dietro chi è? chi è questo? non lo so ragazzi ditemi gli skin per favore ragazzi ma dimmelo se sei te ma dimmelo se sei te ma dimmelo se sei te ma che è il resto? ma che è il resto? io sono capo squadra bel teaming ragazzi cg ma che è? non ce la faccio? è un lupo chi è il lupo? oh chi c'è qua raga? bello questo sei te? chi è? ragazzi ragazzi mi sa che qua non si può fa' sta cosa no chi è questo? chi è questo? tu chi sei? la skin di twitch prime? chi è boys? io sono capo squadra io sono io dietro di te comunque ok io invece sono la femmina io sono la femmina di capo squadra ma non riesco sto a bordo il panico pittorale raga mannaggia voi vai prenderti con l'aereo vai sono io Twitch prime oh mio dio raga vieni corri dove sei? vai a prenderlo sto in fondo sto in fondo sto in fondo no questi non eravate voi no raga che casino ragazzi non si può fare sta cosa ecco mi nisco non si può fare sta cosa raga vai vai nisco no no capisci nulla raga non si capisce la mazza provate a mettere tutti quanti skin default dovete mettere esatto tutti skin default tutti skin default o una skin orrenda non usa nessuna raga va bene va bene raga oh mio dio boys tutti la skin che so lama ok ok ci sta ci sta ci sta il lama va bene va bene intanto quella skin che ho avuto bella troller raga cos'è sta cosa di youtube per niente un torneo torneo tra youtube adesso raga stiamo completamente trollando sono le 11 di sera stiamo completamente trollando bella destroy dopo aver vinto due game uno dopo l'altro raga l'altro io 9 kill e festo 7 kill abbiamo fatto veramente il devasto e adesso stiamo proprio trollando bella game bella andre che casino bella roberto ciccio ti stava cercando lo so lo so prima seguito bella giorgio bella marco belenzo vedi che ciccio gioca per scherzare lo so lo so rega l'ho scoperto dopo che ha iniziato a far teaming con gli altri perché ho detto teaming ma si scioppa o avete il pass cosa 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 allora ce l'ho ok cosa raga quale schiena non leggere non leggerla però ah raga leggete su ts ok ah perfetto io tranquillamente li ho guardati questi manco io ho sparato perché pensavo fosse voi raga il pane assoluto so tonno aspen ma dopo che cos'era solo pinnacoli o mio dio è solo pinnacoli il secondo sarà il prossimo solo pinnacoli ragazzi no rega che casino 10 persone in una casa che casino io ho detto il posto in cui droppare va bene va bene è un po' incasinata la stanza quindi facciamo un po' di Poco casino va bene e mi muto rega ci vediamo dopo bella dopo capitano diventare Bella buggy Bella Gino Ciao che mi son persa due vittorie incredibili Io rega con queste qui le ricaricherò sul canale perché sono state veramente incredibili Sono state due vittorie assurde Ci ci vuole far team con rapings eh rega tanto ormai Eh dai Tanto ormai Tutti fan team con tutti ad ora sto punto Bella ninja Tanto se fanno a ticchiarla si impegna e ti spacca è un pro player bro Bella dollar Bella Cristian C'è anche Xiu dell'intorno di un non ne ho idea Non ne ho la più pallida idea Sì è un evento organizzato da Epic raga link qua stato per donare appunto con la causa È una specie di sostanzione di beneficenza contro il cancro Bella Lorenzo Allora lì si Roby Comunque rega non posso più parlare forte anzi non potrei nemmeno più parlare Sono le undici Sono le undici Cosa ci sto facendo ancora in live sono Due ore e venti di live Nazza noi Bella Samu Dovevo Dovevo finire i regali 10-10 e mezza Eh vabbè Ma no Giacomo per ora In questo periodo no Non sto più giocando con Noda Vedano la safe eh? Beh Loro i regali la prendo la safe eh? Perché non stanno andando in safe? Ha un aereo? Che fanno? Li prende tantissimo Ma proprio tanto Bella Sebastian A rampa ci sono 12 persone che team Vabbè vabbè tanto regà Ormai Ok Ok Tra sopra Sotto Ma cosa sta facendo? Raga ma ti manano anche questo Ma aspetta Non ho capito dove è il nemico Super so Eh ovunque Vabbè questo è morto ovviamente Anche questo Sicuro 100% Eh fuori dalla safe Lo sapevo Lo sapevo che la safe Riprendeva Bella Luigi Le ho pure detto io Dai amico Bella Niccolo Haku guarda la tua live Bella Ok Buono Buono Però adesso è morto dalla safe Tanto Eh raga è impossibile Ecco come fa Si va di pop corn GG bro Bella fede Quando c'è il contest Sarà questo Natale Quindi ragazzi Mi raccomando Codice supporto Un critore all'interno Nello shop In basso a destra Bella Filippo Ho comprato una maglietta Grande Spectral Raga vi ricordo Link delle magliette Questa delle iscrizioni Mi raccomando Molto molto importante Guardate che figata Improponibile Raga lo so che sono le 11 Quindi sì Lo so La live doveva terminare Le 22.30 però Buono Bella FM team Morto Ciccio Ucciso da Blink Peccato Andiamo Sì Ucciso da Blink Oh ma questo Dima Quanto lo stanno Quanti lo stanno guardando Tanto regà Non ce la farà mai Guardate dove la sei Ma che è sta roba Bella donna Bella Marci Scusate ragazzi Sto parlando piano Però lo sapete Che non posso urlare Rialzare un po' Volume del microfono Sì 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 Bella Antonio Ho comprato la maglia Ed è fighissima Grazie bomber Mi raccomando Tagami su Instagram Così ti metto Iniziali i prossimi video Bella Andrea Ciccio team Bava corre Che se regà Non c'è problema E tanto abbiamo scoperto Che for fa Cioè Sinceramente Io pensavo che fosse un torneo Abbastanza serio all'inizio Era anche il mio primo torneo Quindi ho detto Non so come sarà Io nel dubbio la provo Abbiamo vinto due game E F Uno dopo l'altro Raga Io in quel game Veramente nel secondo Nell'ultimo Mi sono comportato benissimo Anche Anche F Mi ha fatto i complimenti Infatti sono molto felice E niente Per me è una gran soddisfazione Insomma Dato che non sono un player Professionale Perché no Ciccio ti guarda Sì Vabbè Due volte Bene Ah Morto Vabbè ovviamente Sì 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 Guarda dentro Quanti neanche lo guardano Con chi è dentro Detto Ma sta timbando tantissimo Ma quanto sta timbando Raga Qua la ritorna Bella amico No Roby Perché Raga Cos'è Cos'è Raga Raga quanti sono Quanti sono Ragazzi Quanti sono Quanti sono Ragazzi E' perfetto Amore portano tutti per teaming E vengono E vengono Bannati No però Scusiamo Siamo con l'altra skin Non so se no ci riporto con loro Sì sì Usiamo la drift fase 1 Ma aspetta che viene Jarl Anche su sì Adesso arriva Jarl Povero Jarl Cacchio Cioè io Sono il più incapace E si è beccato me Poverino L'ho frenato un sacco Sì Sti cavolini Aspetta Dovevo dare anche l'IP All'altro amico mio Do l'IP Buono Però sono sempre fuori safe Regà C'è C'è questa safe Che gli sta togliendo un botto Adesso voglio vedere Con i quad Come fanno Guarda Quanti sono Quanti sono Regà Vabbè Vabbè Sì regà L'ho sentito Tiaro Dopo vi faccio un saluto Perché è veramente Grande Sì sì Era Tia Pa parla Tia Sì vabbè Dopo riga Poi dalla live Ma cos'è Regà Ma cos'è Il mercatino Dai Vabbè Zit torneo Serio Zit torneo Serio Bella Andrea Questo si prende l'aereo E li fa No Prendi l'aereo E li fai salire Cos'è sta roba Prendi l'aereo E li fa salire tutti Guarda 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 Bene Matteo Guardate che ro... No ma perché Non li hai fatto salire Vogliono perdere così Sì 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 All'intessere Bella Maurizio Secondo te team No 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 Non stante in mando No no assolutamente ma guarda Io direi di no Io direi di no Bella Lorenzo Sì Sì raga Era solo nella parte innevata Ma tanto vabbè Ah È vero Non posso non dare perché Ah Era solo nella parte innevata È vero È vero È vero La prossima partita è vittoria Dai Ci si prova Ci si prova Bella Salvo Bella Baybox Mi chiamo Diretti Stimo un sacchissimo Bella Grazie mille Andre Bella Cristian Questa è l'anima Rega ma Guarda l'asfalto quanto stai impazzendo Bella Matti Bella Doretta Misterio del tuo canale Perché non mi saluti è Ruggero No Ruggeri Mariano Ma cos'è un build fight mancato? Cos'è sta roba? Acqua è morta Vabbè ovviamente Raga è la safe Qui siamo dentro Cioè sono dentro la safe Anche se Non si fightano Oddio Quanta gente che lo guarda 45 47 Eh vabbè GG Nova? Quindi è dove Nova? Haha Ma che figo sto ballo Raga Sembra che laghi Invece non lagga È bellissimo No no Non ce ne sono Che andate in safe Cioè non possono Fanto novanto Ah no Non era in safe Incredibile GG Capì per 4 secondi Ambiente GG Ok raga Ragazzi siete pronti per Siete pronti Va bene Che schermettiamo Oh sì sì Abbiamo pure Affinati Chiara Abbiamo Jarl Ok raga Quanti cazzo Siamo Ok Usate drift Drift fase 1 Drift fase 1 Alla deriva fase 1 Eh ma vado a trovare Do che è la deriva raga Colore è It's legendary Legendary è durata No sui sui Chi mettiamo Che schermettiamo Alla deriva fase 1 Raga non trovo la deriva Mi sa che è nascosto Ah eccolo dove era Infatti non riuscivo a capire Aspetta Ah no raga Mi sto domandando Troppe richieste Non riesco a selezionare Ok Fase 1 Fase 1 Fase 1 Che sto Che vuoi Metti pronto Metti la deriva per favore Ce le sto mettendo Bella Giordano Bella Dark E un po' di musica Ragazzi siete pronti? Sì 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 Questo è tutto per la Per la ricerca contro il cancro Ragazzi Non è che sto domando Per rovinare Vi esperienza qualcuno Questa è per la ricerca contro il cancro Vi ricordo di nuovo Ricerca contro il cancro Ieri c Anu link Appunto scrivete Io donazione Quindi C'è link in descrizione Esatto Grazie mille se donate O fate pensare qui di donare Al 3 Non mi ricordo il numero Cazzo Che è che donna? Ragazzi dico Se vinciamo Se potete Se vinciamo Prometto che raccogliamo 100 euro Tutti insieme Vai va bene Io non c'erriò 100 euro Io posso portare 5 euro No Tutti insieme intende? Non c'erriò Sì infatti quanti siamo 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 Dillo cura a Yarl Dillo cura a Yarl Yarl ok Quindi se vincere Tutti ha di dare 5 euro A Charity Sei on? Sì Sì Let's go Ok Ok Bella franzi Bella black Bella comics Aspettiamo il prossimo game Raga Ok We have to drop on the same palace Maybe like Central palace Or a ombra alla palla Ma hai visto qui? Sì raga c'è anche Yarl Questo? E what? È uscito verso Halloween Bella R Grazie mille per la donation Ragazzi siete pronti Chat Dovete essere belle cariche Dovete urlare Ok ragazzi It's all tilted The place you have to drop I'll show you now Ok So you know where Where's the drop Ok So we're gonna be Everyone Who are gonna be bodyguarding? Yeah Everyone building Ok Yeah Everybody in the same building Which king are we wearing? Drift Drift Ok Ognuno rega nella stessa costruzione Basti a barsi Dov'è che atterriamo Raga quindi I'll show you Pinnacoli Grazie Fabio No sì Pinnacoli Però quale palazzo Ok Oh bene Un secco I'll show you The place where to drop Fa sicuro Hai la password La password che c'è Hanno messo la password Sì Mi ha messo la password Your Ma è normale Non hai Non ho specificato niente Solo tilted Ha specificato Ha specificato Yeah Just tilted And then We'll figure it out from there Buono Dove vi messo la password I'll show you The place where to drop Ok I'll show you the image where to drop in the discord In the channel Scusate ma fase 1 e dopo quella base Un attimo Un attimo Raga Ti alessi Subito la foto Ok Dimmi I'll delete I'll install the photo So you see and you see where to drop Ok Ready 3, 2, 1 Go Sì si va bene Fase 1 e questa K Abbiamo messo la base Ok Ombrello O pescheria Sotto È vero Fase 1 Ombrello Tutti quanti ombrello Sì Tantora che andiamo Tutti quanti un piccolo Andiamo Doviamo Di quanto dove c'è l'ombrello Ma sotto Dove c'è il terrazzo Stendiamo in 10 Anche se c'è uno Lo distruggiamo Ma dove stiamo scendendo L'ha scritto In casa di mattoni Sì ombrello O l'altro Ah ok perfetto Non mi ricordavo l'ombrello Perfetto No 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 Non posso Stendiamo la Recon Expert Scusatemi Quindi sto con la Recon Expert Raga ma che skin stiamo mettendo Vabbè Vabbè 8 people speak in Italian Vabbè Marco Sono proprio un'attivazione Io scuola la skin Raga io retengo la Recon Mi muto scusatemi Comunque Io ho un problema Nizko tiene la Recon Expert Perché? Perché è un bug Non può dare un bug No in verità Non la voglio tenere All'inizgo Quando parla quello in inglese E gli dice Yarl Bell'affortunato Che fuori Yarl Non è nemmeno inglese Raga è danese Tipo una roba del genere Vabbè Raffaele Giocatore in coda 62 Raga Do 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 Ok Just start swinging Man Saremo nello stesso palazzo Tipo in dieci Tutti a far teaming E tutti questa skin Bordello Raga Veramente un casino assurdo Solo pinnacoli Ovviamente Non è questa la skin Sì è questa qui Sì è per quello Che ti hanno messo con lui Sì 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 Esatto Avrei immaginato anche Matteo Kess Con Yarl No No Ah ho capito così Raga D'è che mancano un dici su Ho detto no Matteo trolla troppo Yarl Mi dispiacebbe per lui No Sarebbe stato poco carino Ecco perché ho detto Cerca qualcun altro No Ah disco Oh disco Ma è fase 1 Non quindi la fase base Sì la fase base 1 È la 1 Pure io mi ero sbagliato Quella base ragazzi Ah Che me l'hanno scritto in chat Anche a me Mi hai fatto a chat Grazie chat Quindi guarda Ah che hai fatto i 1 Ok perfetto Bella Antonio Tizio ubriaco Bella Monica Bella Fabrizio Raga scusate se sto parlando pochissimo Ma Devo andare Cioè devo andare Non potrei parlare Le 11 e 20 11 e un quarto Raga Bella Antonio Sì Mantello rosso Mantello rosso Ok Ok Just put on the red cloak as well Quello lì Fadesco Quello gratis Quello gratis Quello gratis Ello lì Debianca né Non sono con il suolo Capocetto rosso Il mio team mate Ti ha rifiutato di fare questa cosa ma io lo farò comunque Red Red Hood Ok 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 Ragazzi ti carichi? Bella casa Bella Ok Quale Ok Ok We're ready The game is ours I'm ready bitch It's an old team Perché 120 persone? È un bug No è un bug Lo so Ma si sistema Succedeva anche prima Avevamo 130 140 E vada 138 Adesso mi va Dunque disco È colpa Io non posso Tra un bug Beh Alessandro Beh Matteo Che è il primo in classifica Noi abbiamo vinto due game Però non è che c'è una propria classifica Due game su sei Poi uno raga Veramente fantastico Perché parlate in inglese? Perché c'è Jarl Che è danese Grazie Angelo Grazie mille Bomber Ok Ok Quindi ragazzi Dobbiamo chiedere Tutti 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 Ok 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 Mettiti il mantello Dizgo Rientro dobbiamo killare i lama Non so per quale motivo Vabbè Che stai dicendo Tutti impazziti Allora Allora Sto aspettando che Facciano partire il server Ok Buono partito Partito Dai 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 Ma io sono in fase 1 Non lo so se sono fase 2 Guarda quanti lama Guarda quanti lama Chi è questo? Questo è il capo Questo è il capo Che stai picconando Tu sei quello col piccone del coso Regà Oh oh Chi è questo? Chi è? Sto picconando Tisco tu c'è il piccone del gara Chi è questo? Ok Quando io dico Ombrello Ombrello Perfetto Eh 28 3 2 1 Go La f*** è l'ombrello? L'ombrello è questo È questo Lo stavo pinnando pure io Non lo può vedere All right All right I got it Ombrello ragazzi Ombrello Quanti terrazzo Easy game Ragazzi Ti viene il terrazzo Ok Dove scusa? Al terrazzo Yeah let's go to the balcony Il terrazzo Ok The balcony of the Brick house Raga andiamo Quella arancione Non quello blu Quella arancione Red building Red building Red building Oh my god Pronti raga Dai Bella Nico Oh my god Ombrello 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 Nole Yeah Nice Nice Oh io ho ombrello Oh io ho ombrello Let's go Oh boy Oh my god Yo Shut up Someone need me Someone need me I got me I got me I got me Let's go Let's go I don't even have a weapon Ok I got me I got me I was running at this I was running at this Who's running at this You're a big party You're a big party You're a big party You're a big party Oh my god Sorry 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 You're a queen I don't really know There's no one here This is a joke I hear so many steps I can't understand anything Oh my god So many streams Yo guys let's go 50 50 pot 50 pot Anyone need 50? Yeah 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 we do Oh people under I already dropped Oh my god What's up guys? Okay okay Look crazy Let's go Everyone down Everyone down Everyone down Everyone down Okay No no Out 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 You got a gun Hey guys You got a gun Hit him He's a gun He's a gun He's a gun What's up? He's a gun He's a gun He's a gun Guys Give me some heal Kill for help Kill heal 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 Sì! 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 Ho delle pende, se le volete Sì! Palazzo centrale, palazzo centrale Centrale, centrale 3, 3, 3 Sì! 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 Oh, ho bisogno di healing Ho bisogno di healing Ragazzi, ho potuto delle pende Non so chi le avete bisogno Sì! Sì! Dive le pende! No, ragazzi, le pende Le pende, le pende Oh, le pende Lama pende 165 165 Ragazzi, c'è un altro con cui stai fettando qualcuno Non so chi ma sta fettando Oh, mio Dio! Uno qua dentro Io, il mio brain è Oh, sorry, sorry Oh, sorry, sorry Oh, sorry, sorry Tranquillo, tranquillo Sono io, sono 105 No! F! No, no! Buona Zerra Arrivo! Tex, ti salve F! Ti ti ammazzato? Solo so che mi hanno capito Eh, Pedro, non so nemmeno Un altro Pro player, pro player, pro player Dimo, Dimo Restore, restore Stai arrivando? Spè Madò, che casino Martex, vieni Martex, vieni Martex, vieni Martex, vieni da me Arrivo Oh, mio Dio Oh, mio Dio No, tranquillo Oh, mio Dio No, tranquillo No, tranquillo Ma no, c'è le mette per me I don't know Madonna Raga, palazzo centrale Io non ho attirato il dorso Colpi cecchino, rega Colpi cecchino, please Eh, non so se ne ho Non so se ne ho Non so se ne ho Che cazzo sta succedendo? Tutto di più Ero che mi scona strega Non ne ho Non ne ho Non ne ho Bendele io Bendele io Bendele io È fe È fe Raga, io non so capire una mazza Mannaggia a voi Che casino Non che capisco in caso Beh, di cosa sembra meglio Chi sei Lui, Riente Che no, una sola Janos Ballons Ballons Nooooo Nooo Rip 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 Lezzo Martex, Why? Why Martex kill teammate Nooo Noo Martex, mannazza te Ahahah Martex, Why kill pro player Scambian cross e via Shock fame non riesco a rompere nulla martix è infiltrato è a me è un po' è un po' oh mio dio southwest è un po' 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 raga ma quanti lama sono? sono tanti ma tantissimi ma sono in vuoto ma siamo spartano io ho contribuito a perdere ragazzi ok raga la metto io la metto io la metto io ciao ciao Noi siamo! Noi siamo! Noi siamo! Noi siamo! Non si capisce niente, ragazzi! Noi sicuro che abbiamo sconuto. E la luce! Io mi asciugno. Io amo lui, Mario. Vamos! Vai! Vai, vai! Vai! Vai, vai! Vai! Vai, vai! Vai, vai! Può che soccolo adesso, abbiamo il gioco! Copie la ditta ragazzi, mamma mia! Cosa è questo? L'organizzamento di Youtubers è praticamente un torneo organizzato dall'Epic con tutti i Youtubers e sto regalando sa che farò una live ASMR perchè non posso urlare proprio per niente di live ASMR è meglio. Ok capitano, leggi la chat. Ragazzo, come minimo, Dio ce l'hama. Non c'è, non c'è, non c'è. Dove c'è Yann, dove c'è Yann, dove c'è Yann? Non c'è Casi Not Casi Not Non è chiaro... Bello Non lo so Buongiorno Io rari l'angolo e mi ha scelto Ah siamo tutti morti! World End No 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 you are still alive Am I the only one? No no! E 살�led No 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 no... No 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 no... No 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 no... No 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 no. We have to destroy lamas! We have to destroy lamas! No 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 no... We have to destroy lamas! No 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 no... No 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 no... la foto si seguita la sua è tu? è tu? è tu? io sono morto io sono morto io sono morto io sono morto ok, mettiamo una musica qui si parla in mezzo di mezzo tizko, comunica me e copigliarle sono tutti al centro tizko, dove è il centro che devo dirgli? dici dov'è dove sei? io sono i L quelli a forma di L eh, dici dov'è dici dov'è scusate bella chat ma adesso non posso proprio parlare se parlo mi taglia la gola la live doveva finire un'ora fa letteralmente vabbè è uguale sì, dove è il campo qui è il campo tutti i campi di basket Jarl, sei tu che in fronte di me? sì, sì sì, ma non ho 10 HP sì, ma salviamo il med kit per heal off ok, non problem non, 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 non 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 non, non c'è mezzo inglese mezzo italiano mezzo parola a casa ti ho capito Abbiamo ancora i ultimi 3 Nathikyarl Tecchino, se stai ancora accortando Valle Shinichi E Rashen Rashen dove sei? Venite nel capo del basso Non ti preoccupare, loro ho pagato Infatti che siamo panini I think we should push them E' ottenuto un buon input Come, 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 come me I have balloons, let's fucking push this pagate No, 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 no Don't say that No, no They are very good people No, no, no They are very good people Spymaster qualcuno di voi, ragazzi Ci fa banare tutti No, no, no Non so quali sono le parole banabili su Twitch My bad No Signor Twitch, esatto Non lo ha fatto apposta No, dude, I can't, I have 10 HP I know, I know, it's a squad, but Ok, ragazzi I'm really sorry to say Take my loot Stop 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 No 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 I Mi Do Can Do It Do It Handling You L'unico Invita E Shinichi Dal nostro team Hambiamse Si se vincere si vincere si vincere se vincere si vincere Shiri le sta ammazzando tutti ero un 2-Dama al bordo di Pinnacoli verso la cascata vai a vedere se è qualcosa si raga infatti il copyright è quello il problema io questa live la volevo ricaricare sul canale ma due volte proprio bella fase no Matteo Fire è morto ce l'ho chi vabbè raga gg no ragazzi è finita grazie combo grazie bomber oh oh magari magari la lama non vincere dai dai raga ma ne rifacciamo un altro allora non hanno vinto l'ama non hanno vinto l'ama raga 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 b off bella fabio berra gratmario kalau sono queste continue trubette non lo so ma è normale ah ma raga Eh appunto, è una cosa for fun Va bene io vi saluto Chi viene? Ciao Lo so, lo so Io ci sono Che è che invito? Che è che posso invitare per me? Non lo so Sponsor, uno sponsor, raga, uno sponsor Cosa? No, non credo che ti permette Lo faccio entrare Vediamo cosa scrive ora Che dice? Ancora un gay? Posizialmente questa roba era super divertente da fare Il casino è più totale però, va bene No, su TS non si capiva niente però Si si Ma più che altro Cioè ci stavamo coordinando Ci stavamo coordinando Io ho intenzione di ricaricarla a sta live Dice che non vi conviene Per il copyright No 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 No, non c'è copyright La canzone Ah buono buono Però là no T'ho mutato tutto il tempo a disco Ne ha la trombetta sul copyright Bella Mario Bella Bull Bella Lorenzo Ciao Martina Regà scusate se a quest'ora non sono in forma Non sto parlando ma non posso proprio Cioè non potrei nemmeno parlare Figuratevi fare una live Capitemi Sound resumed Allora fammi reddare Mi dica signor Manuel Molto più spesso Ho gioco con Pidi Ho detto in un altro Oh Manu Manu cosa sta succedendo Teaming Hello Oh shit Bidi lo fai con me Hello Ok Niente raga Io vado Ciao ciao Ok Bella raga Ciao ciao Mi dici così io No non Sound muted Ok Andiamo un altro TS Con F Con F Lo sta F Channel switch F Bella Natalie Bella Zucca Allora Raga E' stato veramente fantastico Il mio primo torneo ed è stato qualcosa di veramente incredibile A parte alla fine che abbiamo trovato Bella F Stavo dicendo che è stato veramente fantastico questo torneo Io sono troppo felice Io domani devo andare a scuola Io non so veramente come fare Che bro Perché guarda che le storie devo ancora editare Ah Comunque noi siamo in live Bella Alessio Bella Gabri Detto questo raga Io vi ringrazio veramente tanto per la partecipazione Perché siete stati fantastici Siamo ancora 5 mila spettatori Rendiamoci conto dopo sta roba siete veramente i migliori Detto questo raga Io vi ringrazio veramente tantissimo Starò ancora un po' magari Giusto nel loro TS Per Finire di editare E Bella Roby Bella Davide Raga mi raccomando un bel like Forza con le iscrizioni Forza con la campanellina del canale Come al certo Sempre quello che ho da ricordarvi Instagram raga Chiaccio la Captain Blazer official mi raccomando Datemi a seguire Dai raga Molto molto importante Vediamo quanti siamo Captain Blazer Dai raga Siamo quasi 27k Bella Detto questo Ci vediamo raga ad un prossimo episodio Ciao turma Da lei per essere sul canale Ciao raga siete dei grandi Ciao ciao